Buongiorno a tutti, diamo inizio ai lavori di questa mattinata, siamo a Palazzo Limadù, siamo in diretta da Ancona nel Palazzo della Regione Marche per parlare di un tema molto importante, sarà il tema del dibattito che in questa estate senz'altro ci terrà vivo l'interesse di tutti perché la Regione Marche è stata capofila in Italia nel promuovere un bando che dà una soluzione, una delle tante possibili e che vanno chiaramente inserita e che deve essere inserita insieme ad altre misure, ma insomma è una strada innovativa per cercare di far rientrare in classe da settembre in presenza i nostri allievi, i ragazzi che frequentano le scuole, quindi l'evento di oggi, questo seminario è dedicato al benessere e sicurezza in aula grazie alla ventilazione meccanica controllata, questa tecnologia ormai ipertestata e che vede l'Italia tra i paesi produttori di eccellenza nel mondo è una tecnologia che può aiutare concretamente per il ricambio d'aria in classe e per permettere di ritornare in presenza con dei risultati che vanno ben oltre l'emergenza Covid perché poi un ricambio costante dell'aria in classe significa un maggior benessere per chi deve studiare e anche per gli insegnanti, non dimentichiamoci, lì che devono appunto sviluppare le lezioni. Io mi presento, sono una giornalista, scrivo per il Sole 24 Ore, sono un'esperta di questi temi, l'edilizia Salubre e soprattutto l'edilizia Endor sono anche parte di un progetto personale che sto portando avanti, un progetto di formazione e informazione, quindi sono particolarmente contenta di essere stata coinvolta in questa iniziativa perché davvero la Regione Marche è stata la prima ad accorgersi che questo era un modo di rispondere all'emergenza e alla pandemia che da due anni ahimè ha cambiato le vite di tutti. Ma io non rubo più tempo al dibattito perché sarà un dibattito intenso, parleremo della tecnologia, la spiegheremo, spiegheremo dal punto di vista medico quali possono essere gli effetti di un ricambio d'aria e parleremo chiaramente dell'iniziativa che qui stiamo oggi a presentare. Do la parola al Presidente della Giunta regionale, Francesco Acquaroli per un saluto, Presidente. Sì, buongiorno, innanzitutto grazie per l'introduzione su un tema a cui noi teniamo veramente moltissimo. Io voglio ringraziare gli assessori presenti a questa tavola, ringrazio Francesco Baldelli, Giorgio Latini, ma ringrazio tutta la Giunta perché è stata un'operazione condivisa su cui abbiamo creduto e puntiamo conferendo a quest'azione molte risorse e poi continueremo pure perché crediamo che le scuole e i luoghi dove i nostri giovani vanno per formarsi, vanno per acquisire capacità di crescita e di formazione culturale e scientifica debbano essere assolutamente luoghi più sicuri possibili, sia dal punto di vista, e questo è anche una battaglia storica dal punto di vista proprio della sicurezza delle strutture scolastiche, ma anche sicuramente nella capacità in questa fase molto particolare della vita comunitaria e sociale con la pandemia, anche una sicurezza dal punto di vista della reazione. Credo che sia importante anche in virtù di un fatto specifico, noi dobbiamo cercare di essere tempestivi perché la pandemia che l'anno scorso ci ha preso tutti di sprovvista, oggi diventa un fattore su cui noi dobbiamo imparare a convivere, credo che per qualche stagione avrà un impatto importante nella nostra quotidianità, nella vita sociale, nella stagionalità e quindi anche nel calendario scolastico. Riuscire a rendere sicure le aule, gli ambienti e le scuole, significa riuscire a portare il più possibile i ragazzi nelle aule, significa fare la didattica in presenza, significa garantire la possibilità di ottenere una formazione che possa essere all'altezza con quelli che sono appunto i tempi che viviamo. In questo senso voglio ringraziare anche la capacità di intuizione che c'è stata, la capacità di crederci, la capacità di trasformare un'idea in un progetto, in un progetto, in un bando, mettendoci risorse in un'azione specifica, che credo possa portare la nostra ragione all'avanguardia rispetto a un tema molto sentito e rispetto anche a una procedura che spero porterà, sono sicuro anzi porterà dei frutti importanti. Non vado oltre perché credo che poi i nostri assessori dovranno più entrare nel merito di tutto quello che è stato fatto, però sono contento che la nostra ragione per una volta sia stata prima nell'intuizione in un'azione così importante. Grazie Presidente, Assessore Baldelli, Assessore alle infrastrutture e all'edilizia scolastica della Regione, parleremo poi più avanti con lei perché ci spiegherà in termine le prime ricadute dell'iniziativa che state portando avanti, ma lascio a lei la parola anche per un saluto. Io farò un saluto telegrafico perché voglio lasciare la parola alla collega Giorgia Latini, Assessore alle istruzioni, anche perché con il Presidente sono venuti qui a salutarci e a essere presenti in questo nostro convegno, in questo nostro seminario, in questa nostra iniziativa a cui teniamo particolarmente perché poi si sovrappone un ulteriore impegno a cui Giorgia e il Presidente devono partecipare. Quindi io ringrazio tutti per la presenza, anche coloro i quali sono collegati in streaming con noi, ma è chiaro che per questa giunta regionale, per il Presidente Acquaroli, l'istruzione, la formazione dei nostri ragazzi, la presenza in aula dei nostri ragazzi è uno degli obiettivi prioritari. Questo lo abbiamo fatto con la collega Giorgia Latini, con cui abbiamo insieme condiviso un percorso e lo abbiamo portato avanti insieme di pari passo, camminando veramente insieme verso la dotazione delle nostre aule, dei nostri istituti di meccanismi di ventilazione meccanica controllata dell'aria e di sanificazione. Quindi io mi permetto di passare subito la parola alla collega che poi ci deve salutare insieme al Presidente. Grazie Giorgia per il tuo contributo. No, grazie a te Francesco. Io veramente sono contenta che questa iniziativa, che prima ricordava la giornalista del Sole 24 Ore, siamo stati la prima regione in Italia a fare un piano strategico funzionale per rendere le aule sicure. Ecco, sono contenta che sia stata subito accolta dalla giunta. Per me questa era una battaglia che facevo anche prima di venire qua a regione, era una battaglia che ho fatto in Parlamento perché mentre noi avevamo bisogno di queste risorse a livello nazionale, il governo Conte II pensava a stanziare 400 milioni per i banchi a rotelle invece che per la ventilazione meccanica, mentre invece la Germania nello stesso momento, nello stesso periodo, stanziava ben 500 milioni di Euro per la ventilazione meccanica. Quindi è stata una delle prime cose che io ho chiesto, una delle prime cose che ho esposto anche nelle riunioni con i sindacati, quando c'era il problema della didattica a distanza, che abbiamo visto comunque non avere gli stessi risultati della didattica in presenza. Questo lo abbiamo appunto costatato anche con le ultime prove invalsi e abbiamo visto purtroppo che i risultati non possono essere equiparati e quindi dobbiamo porre rimedio. Quindi questo nostro muoverci nei tempi garantirà sicuramente una ripresa dell'attività scolastica sicuramente più in sicurezza. Dà sicuramente un valore aggiunto, adesso ci saranno i tecnici che spiegheranno e noi abbiamo fatto, siamo intervenuti con due misure differenziate. Quindi l'assessore Baldelli attraverso la sua delega di edilizia scolastica ha stanziato delle misure importanti proprio per interventi strutturali nelle aule con un bando rivolto ai comuni, sono state improntate delle risorse importanti di 2 più 4 milioni e poi c'è stata invece una misura invece per l'acquisto dei sanificatori e per i purificatori di aria, che questa invece è rivolta agli istituti scolastici. Quindi la strategia insomma è molto ampia, è molto ampia, coordinata per far sì che ci sia una garanzia di una copertura il più possibile ampia di aule che siano in sicurezza. Ecco questa è la nostra priorità proprio per garantire il rientro a scuola in presenza, perché questa è la nostra priorità, quindi questa misura è finalizzata a ritorno in presenza, perché sappiamo quanto è importante, cioè la scuola, la didattica a distanza ha permesso l'andamento, la prosecuzione dei programmi scolastici, però i risultati non ci sono stati perché comunque la scuola è a relazione e quindi noi dobbiamo ritornare al valore in presenza a scuola e io sono sicura ecco che e spero veramente di tutto cuore che anche con questo provvedimento, questa nostra strategia comune, congiunta che abbiamo fatto tutti quanti insieme porterà dei risultati, perché la priorità sappiamo che sono i nostri ragazzi, le nuove generazioni e la scuola. Quindi grazie ancora al Presidente, all'assessore Baldelli per questa sinergia insomma di squadra che si è creata. Grazie. Grazie assessore Latini, io saluto lei e saluto il Presidente, vi ringrazio per aver partecipato a questo saluto istituzionale su un incontro appunto così importante. Allora noi proseguiamo i lavori, io intanto chiamo al podio il professor Marcello Del Rico, l'ingegner Costanzo Di Perna e l'architetto Nardo Nardo Goffi, mentre loro si accomodano e poi io stessa scalerò appena possibile. Allora, permettetemi alcune considerazioni. L'incontro di oggi sarà diviso in alcuni momenti, partiremo da un punto di vista medico, perché è importante capire quali sono gli effetti, cosa si genera in un ambiente chiuso e qual è la trasmissione attraverso l'aria che può avvenire di malattie diverse, non è solo una questione di Covid. Parleremo della tecnologia, cercheremo di capire di cosa si tratta. Spesso quando si parla di ventilazione meccanica controllata c'è grandissima confusione. Io stessa mi sono trovata di fronte a persone che mi contestavano, ma l'aria condizionata aiuta? No, l'aria condizionata è un'altra tecnologia. La ventilazione meccanica controllata ha anche peraltro degli effetti sul clima interno, ma lo andremo a scoprire con l'ingegner Di Perna che ci spiegherà nei dettagli di cosa stiamo parlando. E poi con l'architetto Nardo Goffi entraremo più nel merito di ciò che la regione sta facendo, per poi tornare con l'assessore Francesco Baldelli a fare un bilancio di questa prima azione, di come sta andando e di come proseguirà. Permettetemi alcune considerazioni, sarò brevissima, ma alcune considerazioni importanti che ci aiutano a instradare bene il dibattito di oggi. Prima di tutto la tecnologia della WMC è la soluzione, è la manna dal cielo? No, è una delle soluzioni possibili, è una soluzione importantissima ed è una soluzione importantissima che va comunque integrata con tutte le altre misure, non dobbiamo dimenticarci di sanificare le nostre superfici, non dovremo comunque dimenticarci di portare le mascherine nei luoghi chiusi, quindi non basterà da sola, ma è un grossissimo aiuto. Le scuole, l'edilizia scolastica ha enormi problemi, ci sono scuole che hanno problemi di sicurezza, di sicurezza proprio statica, sì, è vero, però bisogna partire da qualche parte e ora l'urgenza è far rientrare le persone in classe per non creare un danno maggiore, quindi veramente io credo che si debba partire da qualche parte e la regione abbia fatto benissimo a partire da questo punto. E poi c'è un altro tema che è fondamentale, questa tecnologia va ben al di là del rischio Covid, avere un'aria pulita in classe, ce lo spiegheranno bene sia il professor Delrico che l'ingegner di Perna, significa dare un vantaggio competitivo agli allievi e agli insegnanti che lavorano all'interno di una classe, significa permettere un miglior apprendimento, ci sono dei dati proprio studiati di quanto l'ambiente fisico e anche la qualità dell'aria influisca sull'apprendimento dei nostri alunni e quindi è molto importante, molto importante nella prevenzione da tante altre malattie, molto importante anche per difenderci da quelli che sono i rischi di un ambiente indoor troppo isolato, in questo momento stiamo investendo moltissimo sull'efficienza energetica, ebbene l'efficienza energetica deve essere commisurata a una corretta ventilazione degli ambienti interni perché altrimenti non va bene e non si può semplicemente aprire una finestra, perché appunto dobbiamo avere degli edifici efficienti e ben isolati e anche ben ventilati con tutti i sistemi che la tecnologia ci mette a disposizione. Vi racconterò un brevissimo aneddoto, erano parecchi anni fa, almeno otto, mi è capitato di andare a fare un'intervista in un asilo che aveva appena ottenuto una certificazione Casa Clima, io sono torinese in provincia di Torino, in questa intervista non è stato l'architetto a raccontarmi i benefici della VMC installata, bensì è stata la direttrice di questo istituto che mi ha fatto vedere banalmente il registro delle presenze, nell'anno successivo ai lavori di riqualificazione della struttura i bambini non si erano più ammalati. Io adesso ve lo racconto così, ma è stato poi scientificamente studiato, questi effetti sono stati studiati e effettivamente ventilare è come un po' vivere un po' più in un ambiente interno, negli ambienti indoor passiamo la stragrande maggioranza della nostra giornata e lì che prima di tutto dobbiamo andare a difendere la nostra aria che è tanto più inquinata perché è la somma dell'aria esterna che arriva inquinata e in più di tutte le attività che noi svolgiamo all'interno di un ambiente. Ultimissima link che voglio darvi, la scuola e il luogo della formazione, allora io credo che mettere in sicurezza le aule e portare le persone a poter rivivere degli ambienti indoor sia tanto più importante, non solo perché incide sulla formazione attiva dei ragazzi che in presenza imparano e imparano anche a relazionarsi tra di loro, con gli insegnanti e col mondo esterno, ma è tanto più importante perché questi ragazzi se vivranno in un ambiente sano potranno andare a casa, potranno raccontarlo ai propri genitori e potranno influire su quella che è la cultura di domani per un'edilizia veramente di benessere, di benessere indoor e di salubrità, perché la salute passa anche dal luogo fisico in cui sostiamo e questo era appunto per inquadrare la mattinata. Io ora do la parola a chi in maniera più autorevole di me potrà raccontarci quali sono gli effetti di questa azione della regione, quindi il professor Marcello Delrico le lascio il posto e il professore è docente di igiene generale e applicata presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica dell'Università Politecnica delle Marche. A lei la parola professore, buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio l'assessore Francesco Baldelli per l'invito, ringrazio l'aggiunta veramente di aver preso questa iniziativa importante per la salubrità degli ambienti, specialmente quelli scolastici, no? Indoor 2022. Quando già ero studente in medicina, al quarto anno bisognava sostenere l'esame di igiene e medicina preventiva, già si parlava di inquinamento indoor e di tutto l'impatto sulla salute, poi mi sono specializzato, approfondito questa tematica e io cerco di illustrarvi brevemente quali sono gli impatti sulla salute legate all'inquinamento all'interno delle strutture. La dottoressa Voci aveva già anticipato il problema legato alla permanere negli ambienti, perché permaniamo tanto tempo negli ambienti? Pensate che la popolazione rurale passa il tempo dal 95 al 97% del nostro tempo è passato agli ambienti chiusi, 2,4% nei mezzi di trasporto e appena l'1% in ambiente esterno. Quindi siamo tutti esposti all'impatto di questi inquinanti. L'inquinamento lo conoscete bene, è causato da contaminanti fisici, chimici e biologici, io mi soffermerò esclusivamente su quelli biologici, sono quelli che sono stati ovviamente affrontati e sono emersi a seguito di questa drammatica pandemia. Vedete che c'è una miscela veramente complessa di più di 200-300 inquinanti che possono impattare sulla nostra salute, ma la qualità dell'aria dipende da diverse caratteristiche. Ovviamente la popolazione esposta, quella più esposta ovviamente, più suscettibile, sono i bambini, gli anziani, gli immunodepressi. Quanto tempo permaniamo in questi ambienti chiusi? Ed è purtroppo tanto. I nuovi materiali di costruzione che possono rilasciare gli inquinanti e le caratteristiche di esercizio degli edifici, cioè nuovi prodotti che vengono utilizzati per la sanificazione o l'adeguata manutenzione degli impianti. L'Ebiron Mental Protection Agency ha stabilito che le concentrazioni degli inquinanti negli ambienti chiusi sono da 1 a 5 volte pensate più elevate rispetto all'ambiente esterno, perché noi ci focalizziamo sempre sulle tematiche esterne dell'inquinamento, mentre sono predominanti quelle interne. E questa esposizione addirittura diventa da 10 a 50 volte superiore all'esposizione outdoor, in quanto nel tempo attuale. trascorso, come abbiamo visto, all'interno delle strutture chiuse è di circa 10 volte superiore. I primi effetti, chi non ha vissuto situazioni nelle quali ha avuto un disagio quando è entrato in ambienti non scarsamente ventilati, che si diceva sempre apriamo le finestre perché c'è aria viziata, quella era un'area viziata ma contaminata, quindi disagio sensoriale, irritazione e secchezza delle mucose, patologie di tipo alleggio che sono quelle poi predominanti, come vedremo specialmente nell'ambito delle attività scolastiche, dove i bambini sono più suscettibili, addirittura ci possono essere effetti cancerogeni. Quindi si deve quantificare il rischio. E abbiamo due situazioni di effetti dell'ambiente indoor sui nostri organi apparati. La sindrome dell'edificio malsano e le malattie associate all'edificio. Quella dell'edificio malsano è proprio caratterizzata da sintomi aspecifici, che non c'è un nesso causale tra quello che noi inaliamo e quello che si verifica, mentre poi ci sono proprio le malattie associate all'edificio che sono caratterizzate da sintomi specifici riconducibili ad una determinata esposizione. La sindrome dell'edificio malato cosa ci comporta? Ci comporta un disagio acuto e fa insorgere prevalentemente dalla cefalea, l'irritazione agli occhi, naso, gole, tosse secca, pelle disidratata, difficoltà di concentrazione, affaticamento e particolare sensibilità agli odori. Invece le malattie associate all'edificio fanno indicare una malattia causata dalla presenza di determinati inquinanti in sospensione nell'aria, quindi in ambienti in cui se pensate soltanto quando le muffe crescono a causa di situazioni di umidità all'interno delle nostre strutture. Possono colpire queste esposizioni qualsiasi tipo di apparato, quello più frequentemente coinvolto all'apparato ovviamente respiratorio, ma anche quello cardiovascolare, cute, sistema nervoso e sistema immunologico. Queste sono le valutazioni della Commissione Nazionale Indoor del 2000 che va a valutare l'impatto degli inquinanti sulle malattie e che tipo di impatto sanitario si verifica, vedete addirittura sono numeri che devono far riflettere, quindi ecco perché quando ho saputo di questa iniziativa della regione delle Marche come igienista, ma anche come cittadino, ma anche come padre sono stato estremamente contento che si affrontasse una tematica così estremamente importante, gli allergeni, acari, muffe, aumentano notevolmente il rischio di contrarre l'asma bronchiale, specialmente in bambini e adolescenti, pensate più di 160 mila casi prevalenti l'anno. Non mi soffermo sulle altre inquinanti che appunto sono il radon, il fungo di tabacco, il benzeno e il monosso di carbonio, vedete che ci sono anche situazioni drammatiche di esposizione a inquinanti tipo il benzene dove ci sono da 36 a 190 casi l'anno che ti porta la leucemia. Ma quant'è questo impatto dell'inquinamento? Le stime della Global Health Risk dicono che noi abbiamo un 2,7% di carico globale di malattia a livello mondiale, che sembra una percentuale bassa, ma estremamente elevata e pensate che a livello europeo circa il 5% delle morti per tutte le cause nei bambini da 0 a 4 anni per infezioni respiratorie acute. E l'asma poi la fa da padrone purtroppo molto prevalente nella popolazione pediatrica. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, pubblicando questo articolo sull'ANZET, ha stimato nel 23% la mortalità globale totale e il 26% dei decessi nei bambini piccoli causati da ambienti malsani. Il motivo viene sempre enfatizzato su questa rivista internazionale estremamente importante in ambito medico scientifico da ambienti spesso scarsamente ventilati. Allora vediamo nelle scuole qual è l'impatto della qualità dell'area sulla salute. Sicuramente tra i tanti fattori che già ho elencato prima, quello che noi affrontiamo oggi è il microclima. Il microclima che è costituito tra i tre parametri fondamentali che sono la temperatura, umidità, ventilazione e ricambiare a ora. I bambini trascorrono circa un terzo della loro giornata nelle scuole. Pensate che le scuole primarie e secondarie nella comunità europea hanno avranno 71 milioni di studenti, quindi pensate quanta popolazione esposta e quasi 4 milioni e mezzo di insegnanti che rappresenta poi alla fine circa il 20% della popolazione europea. In Italia i ragazzi trascorrono edifici scolastici da 4-8 ore al giorno per almeno 10 anni e si stima che il 15% della popolazione, pari a circa 10 milioni di persone tra alunni e docenti, ogni giorno si trova in 45 mila edifici pubblici su tutto il territorio nazionale. Come ha detto già la dottoressa Voci, purtroppo a strutture scolastiche italiane si trovano numerose criticità igienico-sanitarie e di le qualità dell'indo. Sembra che il Ministero abbia sempre tenuto scarsa considerazione questa tematica, però nel 2010 parte con un progetto per valutare l'esposizione di inquinanti indoor proprio nelle scuole. Si chiama progetto indoor school. I dati fanno abbastanza riflettere perché loro ribadiscono, quindi il Ministero della Salute ribadisce che un problema rilevante di sanità pubblica è dall'indagine emersa che lo Stato, dati allarmati, quali il pessimo Stato in cui versa il patrimonio edilizio scolastico, le gravi criticità igienico-sanitarie rilevate addirittura nelle metà delle scuole esaminate e quindi questo già doveva dal 2010 far scattare degli interventi, di investimenti per intervenire su queste problematiche che come avete visto hanno un'importanza epidemiologica importante nel determinismo di determinate malattie. Allora l'impatto, l'ho già detto la dottoressa Voci, noi non ecco con la ventilazione meccanica controllata e risolviamo tutti i problemi, ma sicuramente abbinandola ad altri sistemi che poi vedremo nelle prossime relazioni, possiamo ridurre, perché l'obiettivo è ridurre il rischio, ridurre l'esposizione. Anche io che lavoro in ospedale ormai da 40 anni e dirigo l'igiene ospedaliere e quindi noi facciamo il monitoraggio delle infezioni correlate all'assistenza, il nostro obiettivo è arrivare ad azzerare le infezioni, ma è impossibile, l'importante però è ridurle, ridurle a livelli tali che non rappresentano un problema per la salute della popolazione. Ci sono nell'ambito delle scuole situazioni che per motivi legati a spazi insufficienti, al sovraffollamento, alla scarsa aereazione, a studenti che possono, perché è proprio la tipica età in cui possono avere già l'incubazione delle malattie ed essere ancora sintomatici e quindi poterle trasmettere all'interno dell'aula, ovviamente gli studenti sono quelli maggiormente esposti. E quale può essere un mezzo, un veicolo di trasmissione il cosiddetto bioaerosol, è costituito da diverso materiale biologico, che va dai polli, dalle endotossine, agli acari, alle spore, agli allergeni, eccetera, e si può diffondere facilmente nell'aria. Poi ci soffermeremo in particolare tra la differenza tra i droplet nuque come trasmissione di droplet e invece la tipica trasmissione airborne. Più le particelle che noi inaliamo sono piccole, più queste ovviamente possono arrivare fino addirittura agli alveoli polmonari. E allora quali sono le principali malattie che possono verificarsi all'interno degli ambienti into? O reazioni a legge con le malattie infettive. Ci sono stati progetti europei che hanno stabilito la comparsa di sintomi respiratori ed allergici nell'infanzia e i fattori di rischio principali sono gli acari, le muffe, i pollini e i derivati di animali domestici. E la rimozione di questi allergeni, migliore sintomi nei pazienti allergici, vedete che i bambini allergici hanno un'incidenza in Italia estremamente alta, l'abbattimento di questi inquinanti porta benefici per la salute respiratoria. L'abbiamo detto delle muffe, le muffe rappresentano un problema estremamente importante, specialmente in presenza di una umidità elevata, polverosità ridotta, ventilazione e negli ambienti indoor si può provocare dal raffreddore alla tosse, alle congestioni, all'irritazione degli occhi con lacrimazione e cedera, ma se fossero presenti addirittura pure le micotossine si potrebbero avere effetti cancerogeni, teratogene e proprietà neurotossiche. I bambini in età scolare, in ambienti indoor, l'inquinamento può aumentare, pensate, fino a 5 volte il rischio di contrarre l'asma, che è la principale causa di assenze scolastiche nelle scuole primarie e secondarie. Il 14 bambini è positivo in età scolare agli allergeni fungini e dal 15 al 20% della popolazione italiana soffre di allergie, ovviamente, particolarmente i giovani che frequentano le donne. L'European Federation Allergy sta adottando strategie per garantire ai bambini di respirare e aria sana negli ambienti scolastici e allora andiamo a vedere quali sono poi le malattie che, come possono essere trasmesse attraverso l'area, perché il nostro obiettivo di questo seminario è valutare l'impatto dell'inquinamento ambientale. Vedete, qual è la differenza tra trasmissione droplet e trasmissione airborne. Io ho difficoltà talvolta a farlo capire anche gli studenti, perché gli studenti quando vengono a seguire il mio modulo di igiene al quarto anno, vengono sempre con l'idea che le malattie si trasmettono per via aerea, punto. Loro non fanno differenza. Allora, quando gli dico no, no, l'influenza non si trasmette prevalentemente per via aerea, ma per via droplet, e incominciano ad avere delle perplessità. E' didatticamente facile spiegarlo, perché le droplet, voi sapete che, per esempio, parliamo di virus, il SARS-CoV-2, 120 nanometri, 0,12 micrometri, cioè estremamente piccolo, come fa a viaggiare? Perché si aggancia alle particelle di saliva che noi eliminiamo, le cosiddette goccioline di plug. Quindi si aggancia a queste goccioline, possono essere piccoli di diametro o hanno un maggior diametro. Se hanno un maggior diametro, nell'emissione tendono a sedimentare a breve distanza, si parla all'interno di un metro. Quelle leggeri ovviamente vanno a distanza. Allora, se voi vedete sulla vostra destra, la materia classica a trasmissione airborne, che sarebbe la tipica trasmissione aerea, è il morbillo, la tubercolosi, la varicella. Se in questo momento avesse la tubercolosi e qua dentro non adottassimo dei sistemi di protezione, probabilmente qualcuno potrebbe contagiarsi se avessi una malattia bacillifera. Pensate che il morbillo è tra le malattie diffusive, quelle più ad alta contagiosità, e quindi si può trasmettere a distanza. Droplet è invece da distanza ravvicinata. Teoricamente quel metro, ma quel metro può essere influenzato da variabili, quindi se io starnutisco il metro forse anche con quelle particelle più del genere non riesco a raggiungere, se ci sono delle flussi d'aria alle mie spalle possono trasportare anche questi droppi che sono un po' più pesanti, ma parliamo proprio teoricamente della differenza tra le due situazioni. Vedi, ci sono malattie molto importanti, tipo la meningite meningococcica. Se io devo entrare nella stanza dell'ospedale dove è ricoverato un signore con la meningite meningococcica, io devo mettere la mascherina nel momento in cui entro all'interno del metro dove è ricoverato il paziente. Se io devo entrare nella stanza dove è ricoverato uno col morbillo, devo entrare, devo mettermi prima la mascherina e poi entro nella stanza, mettendo addirittura il facciale filtrante protezione 2. Questo è il concetto che diventa poi difficile applicare nella realtà. Il SARS, il SARS-CoV-2, grossa diatriba, droplet o airborne. Noi il 18 febbraio del 2020, azienda ospedaliera di Torrette, quindi non era ancora successo niente, perché il primo documento del ministero esce o il 20 o il 24 febbraio. Ci eravamo riuniti, comunità di crisi, perché c'erano stati già i due casi di cinesi, e nel protocollo che abbiamo stilato per diffondere all'interno delle strutture assistenziali, avevamo già individuato come trasmissione sia la droplet che l'airborne. Perché fare distinzioni in questi casi è molto complicato, cosa che comunque conferma anche la successiva circolare del ministero. Cos'è che cambia in questo atteggiamento della trasmissione? Che se io devo ricoverare un paziente con una malattia a trasmissione airborne, lo devo mettere in una stanza a pressione negativa, perché l'aria non la devo far uscire all'esterno. Quindi immaginate cosa fosse stata già all'inizio confermata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità la trasmissione tipo airborne, bisognava trovare strutture. Noi abbiamo messo estrattori ovunque a Torrette, abbiamo reso addirittura subito le sale operatorie a pressione negativa, abbiamo noleggiato gli estrattori, li abbiamo messo in tutte le situazioni in cui possono stati ricoverati questi pazienti. Allora dobbiamo ragionare poi, perché tutto questo poi deriva maggiore attenzione sulla trasmissione delle salse. L'Istituto Superiore di Sanità ribadiva in un documento del 2020 che è una ventilazione adeguata, è un regolare ricambio d'aria in questo tipo di ambienti, quindi gli ambienti chiusi sono necessari per garantire l'assalubrità. Ho preso una sua slide dal suo sito, perché appunto cosa succede un anno dopo, cambiare l'aria per sconvinciare la pandemia, che con questo nuovo documento dell'aprile del 2021 si ribadisce il concetto di migliorare la qualità dell'aria indoor per promuovere e tutelare la salute e quindi incominciano a parlare anche di ventilazione meccanica controllata. Ci sono state già delle sperimentazioni che hanno già dato dei risultati, questo per esempio è l'Università di Ferrara che dice che si può ridurre fino all'80% il rischio di contagio parlando di Covid-19. Come potete vedere nella slide c'è il sistema di ventilazione meccanica in un'aula del Dipartimento di Architettura. I virus sono quelli che adesso c'è la maggiore concentrata, la maggiore attenzione, se va dai virus interici ai virus respiratori, l'influenza è purtroppo nei periodi epidemici influenzali, i bambini che stanno in ambienti scolastici è maggiormente esposto, ma poi vedremo cosa è successo quest'anno con l'ultima epidemia influenzale, ci sono i rinovirus, gli interovisi, quindi ci sono tanti virus che possono trovarsi all'interno degli ambienti chiusi, queste sono le possibili modalità di trasmissione. E un'altra cosa che purtroppo passa sempre in secondo piano per SARS-CoV-2 è la modalità di penetrazione al nostro organismo, perché non ci concentriamo prevalentemente ovviamente sulla via respiratoria, ma attenzione che passa anche attraverso la mucosa oculare. Se io sto in un ambiente dove c'è una concentrazione ambientale del virus, posso anche mettere la mascherina, però potrei essere esposto a livello oculare, tant'è vero che noi abbiamo gestito i contatti in ambiente assistenziale nel momento in cui un operatore veniva a contatto con una persona che poi si scopriva positiva per SARS-CoV-2 e non aveva le protezioni oculare, noi l'abbiamo messo in quarantena attiva. Voi sapete che noi operatori sanitari non siamo mai stati messi in quarantena, anche se esposti come contatti stretti, perché c'è anche la regione Marche, è stata tra le prime a dare la possibilità a noi di andare comunque a prestare assistenza, perché se ci bloccavano pure a casa diventava un problema gestire quell'impatto drammatico che abbiamo subito l'anno scorso, sia noi che come nel resto del mondo. Quello che vi accennavo prima, vedete il nostro protocollo prevedeva già la trasmissione aerea, quindi tutto quello che era necessario, ma poi il 24 febbraio anche il Ministero della Salute ribadisce la trasmissione droplet, contatto di aerea, ribadendo la necessità di mettere in pressione negativa. Allora, se te metti una circolare del genere, avvali che la trasmissione SARS-CoV-2 è per via aerea, se no non mi imponi poi di mettere il paziente in stanza negativa. Allora, anche questo tentennamento al 24 febbraio, a pochi mesi fa, non si riesce a intuire. L'OMS finalmente ha cominciato a fare, questo è un video che non sono riuscito a inserirlo, quindi ho messo soltanto le sequenze, che fa vedere come in un ambiente chiuso, poi ci sono questi droplet e questi nuclei più piccoli, nuclei più grandi di come si diffondono all'interno di una situazione e ribadisce anche l'Organizzazione Mondiale di Sanità, che gli spazi chiusi e confinati rappresentano un fattore di rischio molto importante nel momento in cui c'è una scarsa ventilazione. E allora, la cosa importante delle sedimentazioni, vedete gli small droplet hanno una carica infettante potenzialmente minima, ma da lunga durata in ambiente chiuso, ecco perché sono quelle particelle più piccole che poi possono permanere nell'ambiente, poi ci sono quelle di tipo medio, che hanno una carica infettante media e dipende dalle condizioni ambientali, temperatura, umidità, turbolenza e poi quelle più pesanti, che vengono chiamate large droplet, che invece hanno una carica infettante molto elevata, ma hanno un tempo di decadimento, quindi rapido e quindi di brevissima durata nell'ambiente. Ma noi queste distinzioni ormai non le facciamo più, la consideriamo una malattia che genera aereo solo all'interno, tant'e meno viene ribadito in questo documento dell'Istituto Superiore di Sanità che il SARS-CoV-2 è veicolato attraverso large droplet che ricadono rapidamente al suolo, però una parte delle unità virali possono essere emesse attraverso medium e small droplet che per le loro dimensioni possono persistere in aereo per un tempo prolungato formando aerosol di droplet nuclei. Quindi da ormai una certezza di questa trasmissione, quali sono gli elementi basilari che possono influenzare la distanza di fusione di caduta e di persistenza in area delle componenti virali? Sicuramente la temperatura, questo poi l'ingegnere ce l'ho, il mio collega ingegnere lo dirà, l'umidità relativa, la ventilazione, i flussi d'aria e l'aerodinamica delle goccioline. Io vi faccio vedere soltanto con la ventilazione avere un ambiente con dei ricambi aria ora, che cosa ti abbatte? Quindi è una cosa veramente semplice da realizzare ma con degli effetti estremamente positivi sulla qualità dell'aria indoor, perché si dice sempre se tu stai all'aria aperta stai senza mascherina, perché? Perché c'è la diluizione. Allora, quei ricambi aria ora noi raggiungiamo lo stesso obiettivo, pensate che con sei ricambi aria ora il tempo richiesto per rimozione efficiente pare al 99% delle particelle corrisponde a 46 minuti. Quindi siamo a dei livelli estremamente efficaci, esclusivamente legati alla ventilazione. Anche i CDC hanno ribadito che l'inadeguata ventilazione è un fattore di rischio importante e quindi raccomanda per la prevenzione e della presunzione del Covid un'adeguata ventilazione. Allora, questa è un'altra esperienza che è stata realizzata a Cassino, dal professor Buonanno, ha fatto l'esempio perché hanno editato un tool per la stima del rischio di contagio per la trasmissione aerea del SARS-CoV-2 in ambienti chiusi. Loro hanno fatto proprio l'esempio di un'aula scolastica, aula scolastica di 50 per 3 metri cubi, 25 studenti, insegnante infetta che spiega ad alta voce con tempo di esposizione di due ore. La ventilazione è naturale, come normalmente accade nelle scuole italiane. Cosa succede se nell'auce c'è un soggetto Covid positivo? Il rischio aumenta quando, se l'insegnante è infetta perché parla più a lungo e spesso ad alta voce per farsi sentire da tutti e coprire i brusii che non mancano mai, emette 100 volte di più rispetto alla normale respirazione e senza nessuna precauzione nei confronti agli aerosol, potrebbero contagiarsi fino a 12 studenti. Pensate, 25 studenti, la metà rischia di contagiarsi. Con la ventilazione forzata, un ricambio totale d'aria ogni 40 minuti per 20 minuti, rischerebbe il contagio solo 4 persone. Se poi abbiniamo a questo il microfono al docente, i dispositivi, mascherine, ventilazione forzata, il numero massimo di contagiati scende addirittura a 0,4. Questi sono dati sperimentali che dimostrano l'efficacia di queste procedure e della ventilazione meccanica controllata. 239 scienziati scrivono all'OMS perché dicono guardate che il Covid viaggia e voi non l'avete mai voluto confermare e che poco è stato fatto per intervenire attraverso i sistemi di ventilazione per ridurre i rischi. Quindi viene ribadito anche nel documento dell'Istituto Superiore di Sanità che a distanza da una persona infetta, in uno spazio chiuso e non areato, a distanza breve, ravvicinato anche a lungo raggio, si accumula una maggior carica virale trasportata dalle goccioline aerosol rilasciate dal soggetto infetto. Per chiudere, faccio un esempio soltanto dove lavoro io, Torretti, in area chirurgica, cosa che noi questo lavoro abbiamo fatto molti anni fa. Pensate che nelle nostre sale operatorie abbiamo più di 15 ricambi aria ora, abbiamo addirittura sul letto operatorio i flussi laminari, dove se io vado a contare le particelle è zero, noi abbiamo ridotto le infezioni del sito chirurgico che già di per sé erano basse dal 3,8% a meno del 2%. Dico a tutti di andare a controllare in letteratura chi ha questi dati estremamente così contenuti. Questa è la sintesi di quello che ci siamo detti, l'importanza della ventilazione che in questo deployant del Ministero della Salute viene ribadito che negli uffici e nei luoghi pubblici bisogna utilizzare gli impianti di ventilazione meccanica controllata, quindi prende finalmente una posizione concreta nel ridurre i rischi all'interno della struttura assistenziale. Ma non dimentichiamo una cosa importante, che quelle misure che sono sempre state raccomandate, il distanziamento, che da un metro, più di un metro, è sempre meglio più di un metro, ma un metro, la mascherina, l'ingienizzazione delle mani. L'incidenza dell'epidemia influenzale quest'anno è stata sotto sogno, non l'abbiamo proprio vista, io ero anni che non vedevo una così bassa incidenza della malattia influenzale, ma voi potreste domandarmi, ma perché la popolazione si è vaccinata? No, in Italia si è vaccinata appena il 18%, quindi non è effetto del vaccino, è effetto delle misure di base. Addirittura si sta pensando, finita la SARS, che quando ci saranno le epidemie influenzali, perché l'influenza, molti dicono, sarà la coronavirus nel futuro una banale influenza, e l'influenza non è assolutamente una malattia banale. L'influenza aumenta, il tasso di mortalità è in maniera elevata, nei periodi autunnali, dove colpisce invernali, dove colpisce ovviamente le porzioni immunocompromesse, persone affette da patologie cronico-degenerative, quindi c'è un aumento del tasso di mortalità, non è una malattia banale. Si sta pensando che abbinare il vaccino con queste precauzioni alla fine della pandemia potrebbe veramente contrastare in maniera efficace anche l'influenza. E pensate che abbiamo azzerato l'anno scorso i casi di morbillo e di rossolino. In questo caso però c'è di mezzo anche la vaccinazione obbligatoria. Voi sapete che quando c'è stata l'epidemia del morbillo, il Ministero ha reso obbligatorie queste vaccinazioni. Però questo sta a dimostrare l'efficacia di questi sistemi. Bene, l'ultima slide è questa, pandemia del 1918 dell'influenza. Questa è una scuola all'aria aperta, rischio di prendersi la polmonite da altri germi, però era all'aria aperta proprio per ridurre il rischio, in quanto non avevano una ventilazione meccanica controllata all'interno della loro struttura, perché in quei tempi, effettivamente, un secolo fa, queste conoscenze non si avevano. Quindi è ora di ritornare a vivere, senza dimenticare quello che abbiamo passato, guardando più là. Salute per tutti e grazie per la vostra attenzione. Professor Delrico, tengo anche io la mascherina adesso perché stiamo dialogando, però devo anche guardare il microfono, altrimenti nessuno mi sente. Volevo, le chiedo brevemente, ma poi anche la finestra, perché bisogna ventilare, perché anche questi disinfettanti possono avere un effetto negativo e così è anche questo un valore aggiunto? Sì, sì, la significazione. Allora, io da igienista mi sono... è stata la vittoria di Ignazio Semmelweis. Non so quanti di voi se lo ricordano storicamente, non so cosa storicamente, perché Ignazio Semmelweis era un medico austriaco che fu il primo a individuare l'importanza dell'igiene delle mani. 1846. Dovevamo aspettare la pandemia per lavarci le mani, perché è una di quelle situazioni nelle quali anche si viene insegnato a tutti i livelli, anche nelle scuole, io mi ricordo sempre, quando tornavo da scuola, mia mamma è un'insegnante, mi diceva sempre vatti a lavare le mani prima di virti a studiare a tavola. O si è perso un po' questo atteggiamento dell'igiene delle mani. Però l'igiene delle mani di per sé rappresenta già un sistema estremamente efficace, perché io posso anche toccare superfici contaminate. L'importante è che poi non mi tocco gli occhi, perché gli occhi sono una porta d'ingresso, il naso o la bocca. Quindi ecco, l'igiene delle mani, la sanificazione, gli ambienti, ma quello che lei ha ribadito, questa ventilazione meccanica controllata, lavorando 7 giorni su 7, 24 ore su 24, lunedì quando i ragazzi rientrano in classe, germi là dentro sono stati abbattuti nel 99,9% dei casi in funzione di quella che avevano fatto prima con sé e ricambiare a ora. Un'ultima provocazione che mi aiuta a dare l'intervento successivo, c'è un problema di termini, perché si è parlato sempre di ventilazione, ma un conto è la ventilazione naturale, che si può fare aprendo le finestre, un conto sono le tecnologie di ventilazione. Allora, io mi chiedo, anche rispetto alla classe medica, lei è un docente, insegna all'università, allora quanto è importante fare questa formazione, quanto è importante che poi, forse questo lo chiederemo anche all'assessore Baldelli, che venga fatta anche nei confronti delle persone che andranno ad utilizzare queste aule in cui ci sono questi sistemi, proprio, e questo convegno di oggi peraltro è già l'avvio di un percorso in questo senso, perché andiamo a spiegare bene di cosa stiamo parlando. No, no, la formazione è intesa a livello culturale, di conoscenza, perché effettivamente i ragazzi che arrivano al quarto anno del corso di laurea di medicina sono presenti completamente a digiuno di questi rischi di impatto ambientale sulla salute, e quindi il nostro compito è informare, perché non può succedere che un medico non sappia che è una tematica così importante, trasversale, che colpisce tutta l'età, specialmente poi i bambini in età pediatrica non venga conosciuta e non sappia quali sono le misure da adottare per ridurre i rischi, perché il problema si sposta anche negli ambulatori. Assolutamente, quindi se è un problema trasversale, noi affrontiamo oggi le scuole per questa estrema importante iniziativa della regione Marche, ma il problema è trasversale. Pensate a quanti, nel prima pre-Covid, quando chiunque di noi ha frequentato degli ambulatori nell'attesa di fare qualche procedura diagnostica, che affollamento c'è. E molte persone si sono contaminate in ospedale. Molte persone, esatto. Certo. Grazie, grazie professor Derrico, ingegner Costanzo Di Perna, la chiamo qui, le chiedo di prendere il posto del collega, docente di fisica ambientale dell'Università Politecnica delle Marche, come detto, si tratta di capire questa tecnologia. E allora io so che l'ingegner di Perna ci porterà proprio all'interno di questa tecnologia, cercando di spiegarcela, di farci capire anche tutte le differenze, perché come ogni tecnologia ci sono diversi sistemi applicativi e quindi anche i comuni, le province che si sono confrontati col bando hanno dovuto comprendere quelle che potevano essere le possibilità anche applicative all'interno delle scuole, a seconda di come il sistema viene inserito. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio l'assessore Baldelli per avermi coinvolto in questa bellissima iniziativa. Il mio intervento sarà focalizzato prevalentemente sull'impiantistica da installare per la ventilazione meccanica controllata. Abbiamo già sentito la bellissima presentazione del professor Derrico per quanto riguarda i vantaggi dell'utilizzo della ventilazione meccanica controllata rispetto a quella che viene chiamata reazione. Si diceva prima dei termini, i termini sono fondamentali perché noi oggi stiamo valutando tutta una serie di normative e di leggi su questi aspetti e quindi vi sottolineo che quando parliamo di ventilazione naturale non è la stessa cosa di parlare di aereazione. La ventilazione naturale in realtà è la ventilazione che si effettua attraverso quei sistemi che prevedono finestre e torrini quindi una ventilazione comunque guidata non è l'apertura della finestra l'apertura della finestra è l'areazione. Ok? Quindi ventilazione naturale per gli architetti insomma sanno bene che cosa voglia dire quando ci si mette a progettare un sistema che prevede questi flussi d'aria comandati in qualche modo attraverso aperture automatiche di sistema. La reazione è quello che riguarda la finestra l'apertura della finestra e che cosa cambia fra una ecco il termine infatti ventilazione meccanica controllata differisce dalle reazioni per la prima frase che ho scritto qualità dell'aria interna non controllabile dall'utente ovvero se noi apriamo una finestra o abbiamo una ventilazione naturale noi non siamo sicuri di qual è la portata d'aria che entra perché dipende dalla velocità del vento dipende dalla temperatura esterna dipende da tantissimi fattori in alcuni momenti può addirittura arrivare fino a 10 ricambi ora pensate un'apertura della finestra in altri momenti praticamente nulla quindi aprire una finestra vuol dire praticamente non avere il controllo della portata dell'aria a differenza di quella che viene chiamata ventilazione meccanica controllata cioè cosa controlliamo la portata d'aria che è di fondamentale importanza altra cosa fondamentale differenza fra reazione e ventilazione WMC in inverno ovviamente aprire le finestre vuol dire praticamente fare entrare aria a temperatura molto bassa è chiaro che comunque il ricambio d'aria il rinnovo d'aria ci pesa da un punto di vista energetico e questo ce lo dobbiamo mettere in testa non è che noi facciamo ricambiamo aria senza un consumo energetico stiamo cercando in tutti i modi di ridurre questo consumo energetico ma questo vuol dire ovviamente maggiori consumi anche per le scuole ok quindi rinnoviamo una quantità d'aria parlavamo di cinque rinnovi d'aria quindi cinque rinnovi d'aria sono tantissime tantissima aria che noi immettiamo nella nostra ambiente e dobbiamo d'inverno riscaldarla perché voi non potete pensare di mettere aria fredda in un ambiente altrimenti gelate tutti e quindi tutto il discorso del comfort salta completamente aprire le finestre vuol dire fare entrare aria praticamente completamente fredda quindi praticamente peggiorare anche il comfort non ne parliamo nelle giornate ventose dove abbiamo il rischio di corrente d'aria e poi i rumori i rumori io mi soffermerò tanto sull'aspetto acustico perché quest'aula è significativa qui c'è un'acustica direi quasi ottima non abbiamo rumore di fondo non abbiamo niente l'impianto praticamente è un impianto d'aria condizionata che quasi non si sente e quindi riusciamo benissimo a parlare anche senza microfono e questo è di fondamentale importanza in un'aula scolastica ok quindi ecco perché io sottolineo molto questo aspetto e poi ovviamente nessuna filtrazione dell'aria questo l'abbiamo già visto mi ha già parlato il professore prima i vari studi dal 1955 da Wells Rilley e così via hanno comunque indicato tutta una serie di procedure per la valutazione del rischio da covid perché prima diciamo la ventilazione meccanica controllata la si vedeva per una maggior qualità dell'aria un comfort migliore da un anno e mezzo praticamente parliamo solo di covid quindi OMC collegata col covid collegato quindi con la riduzione del rischio allora io ho messo N N che cos'è? N è il tasso di ricambio d'aria questa questo questo grafico riporta un po' quello che era nella tabella del professore ovvero aumentando il numero di ricambi orari vedete passando da 1 a 6 si riduce il rischio di contagio ovviamente ok bene uno dei parametri che ci interessa da un punto di vista impiantistico per controllare il rinnovo d'aria è il valore di CO2 perché perché praticamente esistono altri sistemi per il controllo della qualità dell'aria per il controllo del rinnovo dell'aria tipo quella dei gas straccianti ma sono molto costosi oggi è possibile praticamente valutare il rinnovo d'aria attraverso il decadimento della concentrazione di CO2 è abbastanza preciso come sistema e quindi la valutazione e quindi la misura della CO2 ci dà un'idea di quanti ricambi d'aria abbiamo altro aspetto che sottolineo quando parliamo di ricambi d'aria in particolare dopo ve lo mostro con la norma 1.10339 parliamo di ricambi d'aria del volume occupato ok questo è un aspetto fondamentale cioè se voi praticamente mettete l'aria in cima e la riprendete a un metro di distanza voi il volume occupato che è praticamente dove siete seduti adesso in questo momento non lo rinnovate per niente ok quindi quando noi parliamo di rinnovi e ricambi d'aria dobbiamo assolutamente fare riferimento a un parametro che si chiama efficienza di ventilazione però dobbiamo in qualche modo valutare quant'è il reale rinnovo nella zona occupata vedevamo prima nella sala operatoria il numero enorme di rinnovi d'aria dove è tra virgolette solo dove c'è il letto del paziente ok perché è lì che deve esserci ma quando noi andiamo a installare un impianto dobbiamo tenere in considerazione dove questo impianto andrà a rinnovare l'aria ok perché altrimenti rischiamo che quei rinnovi ipotetici non sono un po' reali perché non vanno nella zona che ci interessa tutte queste cose vanno valutate nella scelta di un impianto WMC che tipi di impianti WMC abbiamo oggi unidirezionali bidirezionali canalizzati non canalizzati centralizzati o decentralizzati pro e contro ce ne sono tantissimi praticamente per ogni tipo di impianto un impianto classico è quello che vede un recuperatore posto nell'aula un recuperatore posto nell'aula con una canalizzazione oppure un recuperatore posto all'esterno dell'aula oppure per esempio abbiamo sistemi a pareti oppure ok al centro vedete per esempio invece il solo recuperatore posto senza canalizzazione per quello che ho detto prima direi che il primo impianto che è quello che vedete sulla sinistra è quello che riesce a diffondere meglio l'aria quindi in realtà riesce a rinnovare l'aria nel volume copato gli altri due vanno valutato di volta in volta ora quali sono i componenti questi sono i tipi di impianti diciamo che il classico è il bidirezionale canalizzato non canalizzato centralizzato decentralizzato altra grossa differenza centralizziamo o decentralizziamo io direi che la prima cosa fondamentale nella decentralizzazione è il fatto che noi possiamo comandare ogni singola aula ok perché spesso e volentieri molte aule non si utilizzano ok e quindi la possibilità di avere un sistema anche semplice temporizzato on off per aula ok perché ovviamente dopo dobbiamo sempre fare riferimento ai costi di questi sistemi no allora avere anche una possibilità di spegnere ciò dieci aule otto non le utilizzo due le utilizzo se avesse un impianto centralizzato difficilmente riesco a gestirla con un decentralizzato ovviamente spengo le otto aule che non utilizzo e ne tengo due proprio perché vi ripeto la WMC costa in termini energetici quindi non è che poi dopo questa non grava sui costi tra virgolette della scuola ora quindi decentralizzare vuol dire questo il centralizzato ha altri vantaggi devo dire ok però va valutato di volta in volta il componente principale due sono i componenti principali direi per quanto riguarda gli impianti sono il recuperatore di calore che ce lo abbiamo mettere per forza perché se no a girare con sé cinque volumi ora prendendo l'aria dell'esterno e riscaldarlo magari con una batteria elettrica oggi è praticamente assurdo con tutti i discorsi che facciamo di risparmio energetico quindi recuperatore di calore filtrazione altra cosa fondamentale noi dobbiamo filtrare l'aria ok quindi anche il filtro diventa di fondamentale importanza due componenti direi più importanti della WMC la filtrazione e il recuperatore ok la ventilazione meccanica controllata senza filtrazione secondo me non è ventilazione meccanica controllata ok cioè se voi volete mettere un estrattore ok per me quella non è ventilazione meccanica controllata perché voi non filtrate l'aria ok quindi è necessario secondo me comunque prevedere un filtraggio dell'aria un filtraggio che può essere sia per l'aria che entra che per l'aria che esce ok quindi normalmente però i recuperatori oggi hanno tutta una serie di filtri che è possibile inserire quindi sonde di controllo altra cosa fondamentale ovvero che cosa andiamo a controllare per quanto riguarda il nostro ambiente allora i recuperatori eh velocemente il recuperatore statico entalpico e termodinamico questi sono i tre principali recuperatori eh noi abbiamo fatto degli interventi anche in facoltà in Ateneo eh l'anno scorso durante la pandemia quindi abbiamo installato dei recuperatori e i recuperatori che abbiamo installato veramente sono recuperatori termodinamici perché all'inizio si diceva praticamente che il recuperatore il recuperatore entalpico tutti fermi ok perché il recuperatore entalpico eh recupera sia sensibile che latente però c'è possibilità di miscelazione fra l'aria in esclusione e l'aria in ingresso quindi questo praticamente come il bypass o eh il riciclo praticamente l'anno scorso se vi ricordate sono stati tutti esclusi nelle UTA ok per il problema covid l'entalpico quindi tutti quelli che avevano l'entalpico li hanno fermati tutti i recuperatori entalpici lo statico lo statico è una batteria alettata in realtà eh diciamo può avere una contaminazione ok perché ci sono dei canali laterali dove eh ci può essere un minimo eh di miscelazione tra l'aria in ingresso e l'aria in uscita il migliore è il termodinamico però è ovviamente quello che costa di più il termodinamico ha una pompa di calore che trasferisce il calore eh da una parte all'altra e quindi non c'è contatto assolutamente tra eh l'aria in ingresso e l'aria in uscita bene velocemente eh quali sono i decreti e le norme che eh oggi dettano l'impiantistica beh la prima in assoluto conoscete bene il decreto 75 che se andiamo a vedere quante scuole oggi hanno rispettato il decreto 75 direi molto 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 poco ok eh qui parliamo quindi di coefficienti di ricambio quindi il solito n dove eh sappiamo bene che per le materne è 2,5 per le medie 3,5 per le scuole eh superiori eh secondarie scusate di secondo grado sono 5 volumi ora 5 volumi ora un numero elevato ok eh con 5 volumi ora possiamo anche condizionare un ambiente eh un ambiente quindi non solo eh ventilarlo altro punto fondamentale la 10339 e se volete la 16798-1 che è l'ultima norma eh pubblicata la 10339 allora a differenza del decreto il decreto impone un numero di eh volumi eh di rinnovo dell'ambiente ma non parla di quante persone ci sono in quell'ambiente non parla del volume del nostro ambiente noi abbiamo visto anche con le procedure eh indicate anche dello stesso Bonanno e quant'altro che in realtà il rischio covid eh è legato tantissimo al volume dell'ambiente se noi abbiamo un volume molto piccolo rischiamo tantissimo rispetto ad avere un volume molto molto grande ok con lo stesso numero di persone quindi il volume è di fondamentale importanza come il rinnovo ok ma anche il numero di persone il numero di persone che andiamo a mettere in quel in quel volume ok quindi praticamente la 10339 non si occupa tanto del numero di rinnovi d'aria ma praticamente ci dà la portata per ogni persona ok quindi la portata per ogni persona eh nel caso di edificio edificio attività scolastica e ci dà pure un indice d'affollamento che è possibile seguire per quanto riguarda il numero di persone da mettere e questo è quello che vi dicevo prima il volume convenzionale occupato questo è scritto in una norma che stiamo cercando di aggiornare da circa 16 anni ma non ci siamo riusciti io faccio parte della commissione del CTI che sta lavorando sul rinnovo della 10339 per svariati motivi sono 16 anni che ci lavoriamo e ancora praticamente rimane questa come eh come norma di riferimento del 95 ebbene in questa norma c'era già il concetto di volume convenzionale occupato porzione del locale delimitata alle seguenti superfici pavimento è una superficie posta un'attesa di un metro 80 fondamentale vedete l'efficienza ventilazione a seconda di dove noi immettiamo l'aria vedete che ci sono persone che praticamente hanno un'efficienza bassa cioè vuol dire che praticamente l'aria lì ne arriva poca di quella di rinnovo quindi immagini di questo genere sono fondamentali da mostrare quando io vado a fare un impianto anche schematizzati in termini di freccette cose del genere cioè dire l'aria entra qua ma da dove esce appunto la domanda è dove arriva ok perché se io immetto l'aria per esempio da una parete e non c'ho una buona prevalenza l'aria dall'altra parte non ci arriva ok fa il giretto e se ne esce quindi è importante che cosa sono importanti tutti i parametri progettuali dell'impianto ok altra cosa che sottolineo sempre attenzione alla presa d'aria esterna cioè non mettete sistemi a parete e poi dove la prende l'aria punto di domanda la 10339 già nel 95 diceva prendete l'aria mi raccomando non cioè non prendete l'aria in prossimità di una strada di grande traffico ma è ovvio ok ma fondamentalmente ad un'altezza minore di 4 metri dal piano stradale più elevato di accesso dell'edificio quindi si prende il piano d'accesso dell'edificio si traccia la linea a 4 metri e lì in quella zona lì non si prende l'aria ok non si prende l'aria esterna ok questo è quello che dice la 10339 giustamente perché perché poi passa una macchina si può fermare un camion a scaricare qualcosa ok possono succedere tante cose in quella zona lì e quindi praticamente rispettare queste indicazioni devo dire è di fondamentale importanza poi adesso veloce così almeno poi ci sono un sacco di adempimenti che io qui ho segnato e devo dire che comportano anche un notevole tempo per poterli svolgere e sono la redazione del progetto esecutivo di un capitolato e di un'offerta ok la WMC è un impianto andiamo a fare un impianto e quindi vale la pena fare questa cosa in teoria uno dice vabbè ma è un ventilatore no io metto un ventilatore un elettrodomestico insomma non è proprio così ok oggi abbiamo tutta una serie di leggi che in qualche modo inquadrano questi interventi da un punto di vista energetico quindi ripeto io qui ne ho elencati alcuni comunque le slide dopo ve le lascio la redazione della legge 10 facciamo un nuovo impianto facciamo un impianto di ventilazione meccanica controllata dobbiamo andare a fare che cosa una legge 10 come riqualificazione energetica quindi voi aumentate i consumi del vostro edificio ok e quindi la verifica praticamente se questo aumento è possibile farlo meno va fatta secondo il decreto requisiti minimi ovvero la ex legge 10 poi cosa facciamo l'APE lo facciamo o no a fine lavoro perché perché mettiamo che la scuola vabbè è difficile che una scuola in classe A non abbia la WMC devo dire comunque potrebbe peggiorare se io metto un recuperatore di calore magari con efficienza molto bassa è ovvio che alla fine l'indice di prestazione della mia scuola peggiora e quindi cambia l'APE ok poi certificati conformità e requisiti acustici passivi nella regione Marche ok quindi anche quello in teoria va fatto devo dire che però tutti questi adempimenti fatti per un'aula dopo è semplice farle per tutte le altre non è che ovviamente abbiamo grandi differenze fra un'altra e un'altra quindi tutti i progetti che voi state facendo più o meno sono tutti analoghi ok quindi ripetete la stessa cosa più volte cambierà pochissimo qualche dimensione qualche persona in più però alla fine sono sempre le stesse identiche cose fatta una ok se vi fate una bene vi ritrovate tutto perfettamente rispetto della 10339 il decreto 75 l'abbiamo visto e anche i cam i cam si occupano anche dell'aspetto acustico nelle scuole ok e anche lì abbiamo delle cose poi i regolamenti dell'eco design volevo fare anche un'altra considerazione è necessario effettuare un'analisi dello stato di fatto dell'outlo per identificare per esempio lo stato delle finestre in quanto se altamente permeabili potrebbero rendere inefficace l'intervento di recupero di calore che cosa vuol dire se io ho una finestra che è in colabrodo e metto un sistema che immette aria e estrae l'aria ma l'aria deve essere immessa e estratta da quel sistema se no non recupero ok che vuol dire che se io ho questo sistema che estrae l'aria quindi mette in depressione la nostra aula e l'aria invece da entrare dal recuperatore entra dalle finestre e mi sono giocato tutto il recupero di calore ok quindi diciamo è sempre meglio mettere il recuperatore che aprire le finestre però attenzione avere delle finestre altamente permeabili un pochino ci fa in qualche modo ci riduce tantissimo l'efficienza del recuperatore di calore perché poi oltretutto poi creando depressione nell'aula rischiamo che l'aria fredda vada entri dalle finestre e colpisca in pieno lo studente che sta lì vicino quindi andiamo a creare una condizione di discomfort locale inserendo praticamente un sistema che non riesce a controllare praticamente la velocità dell'aria all'interno dell'ambiente in questo caso vedete si predilige un impianto decentralizzato per poter mettere leggermente in pressione l'aula a differenza di prima che vedevamo giustamente che nelle sale covid ci deve essere depressione in questo caso l'aula deve essere messa in pressione perché per quello che dicevo prima devo mettere l'aula in pressione in modo che l'aria esca dalle finestre perché altrimenti mi entra aria fredda e quindi ho fatto un disastro vado a fare un sistema che metto in depressione l'aula e praticamente faccio entrare l'ingegnale di perna bisogna fare molta attenzione allo stato dell'arte allo stato dell'arte sì ho altri cinque minuti siamo un po' stretti ma va bene elenco solo questo poi eh no due cose le devo dire allora il costo il costo della WMC altro capitolo fondamentale da cosa dipende dalla tipologia del sistema dalla tipologia ed efficienza del recuperatore di calore tipologia efficienza del sistema di filtrazione eventuali presenza di altre funzioni o trattamenti tipo per esempio una batteria perché se io metto un recuperatore statico e fuori fa molto freddo rischio che l'aria entri all'interno a 16 gradi quindi in qualche modo devo mettere una batteria di post riscaldamento la sensibilità del sistema la presenza dei sistemi per l'abbattimento di cariche microbiologiche l'eventuale integrazione domotica e vabbè le altre le leggete volevo sottolineare questo qui vedete per esempio un monitoraggio che avevamo fatto qualche anno fa in un'aula dove ovviamente troviamo la concentrazione di CO2 sulle ordinate e il tempo sulle ascisse e quindi si vede benissimo che arriviamo a picchi di 2600 parti per milione e si vedono le aperture delle porte e le aperture delle finestre vorrei sottolineare che praticamente l'idea è quella di un accordo appunto tra regione Marche e università per monitorare la qualità dell'aria nelle aule dove saranno dove si stanno praticamente effettuando i vari interventi in modo a capire e dare indicazioni ovviamente per migliorare ancora di più le tipologie impiantistiche per il benessere e la sicurezza delle nostre aule scolastiche grazie Ingegnar Di Perna grazie io solo due brevissimi flash il primo perché lei prima ha parlato di ventilazione naturale perché non si può giustamente correggendo anche un errore che ho fatto io nel citare la ventilazione in questa maniera ma non si può attuare una ventilazione naturale in un edificio esistente semplicemente perché va progettata la ventilazione naturale e quindi non basta aprire le finestre sì allora la ventilazione naturale va progettata però non la può comunque confrontare con la meccanica controllata perché va meglio della reazione quindi io progetto apertura torrini con finestra quindi va sicuramente meglio dell'apertura incondizionata della finestra il problema lì che dipende dall'effetto cammino all'effetto vento che sono due effetti che purtroppo non sono controllabili quindi le progetta la ventilazione naturale per avere quelle portate che le avrà solo in quelle condizioni se non ci sono quelle condizioni non le ha quindi secondo me un'idea per chi vuole progettare in termini di ventilazione naturale è l'ibrida cioè andare in ventilazione naturale quando è possibile quando non si può si va con la ventilazione meccanica controllata questo è l'ideale chiaramente aumentano i costi però per un edificio è l'ideale perché ricordiamoci sempre che passiamo attraverso i canali attraverso i filtri ma tutti questi componenti vanno comunque controllati ogni anno va fatta una manutenzione vanno sanificati quindi praticamente rispetto all'apertura della reazione che in realtà e questo anche è un tema importante quello della manutenzione assolutamente che io non ho toccato perché ovviamente la manutenzione di questi sistemi sarà di fondamentale importanza ultimissima cosa abbiamo parlato cioè la regione con un'iniziativa veramente innovativa nel panorama politico generale nel fatto che nessuno si era preso cura prima di questa tematica ha stanziato le risorse e quindi i costi sono coperti ma le scuole che hanno milioni di altri problemi ed è quello che tutti in questo momento stanno dicendo ha senso fare un intervento di installazione di una ventilazione meccanica controllata in una scuola che magari ha un problema di statica ma sono due problemi completamente diversi no questo glielo chiedo perché è una provocazione che tutti fanno quindi secondo me ha comunque senso ok cioè noi con la ventilazione meccanica controllata in questo momento riduciamo il rischio covid esatto quindi a settembre vanno in presenza ok quindi noi in facoltà in Atenean abbiamo fatto così cioè si è valutato il numero di rinnovi d'aria che avevamo in ogni aula e si sono valutate praticamente le persone che in quell'aula potevano comunque stare a seconda per esempio del volume dell'aria dell'aula e della superficie finestrata apribile quindi abbiamo fatto delle valutazioni abbiamo detto ok lì dentro abbiamo tre volumi ora ci mettiamo 15 persone lì ce ne mettiamo 5 certo il problema è ridurre in questo momento il rischio certo dopo lo so che la scuola ha un problema antincendio sismico e così via però bisogna partire da qualche parte per dare un segnale anche concreto di rinnovamento assolutamente diciamo anche che sono interventi con costi molto più bassi perché se lei mi parla di un intervento sismico certo ma ne parleremo comunque anche con l'assessore Baldelli dopo perché la regione sta facendo molto sull'edilizia anche in questo senso ingegnere la ringrazio davvero è stato molto interessante ascoltarla grazie a voi entriamo nel vivo architetto Nardo Goffi nel vivo di quella che l'iniziativa ha messa in campo dalla regione lei è dirigente del servizio tutela gestione assetto del territorio della regione ci avete lavorato avete lavorato anche in tempi molto stretti e quindi anche questo onore al merito di essere riusciti a finanziare questo bando per essere pronti per l'apertura ahimè settembre dietro l'angolo a lei la parola sì magari col microfono in effetti è gestibile in maniera esattamente forse va attivato il microfono solo un attimo per chi ci sta ascoltando in streaming ci stiamo preparando aspetta il secondo aspetto che vorrei farvi vedere come i territori hanno percepito questo progetto quindi come hanno partecipato i comuni e le province è una strategia un po' generale sull'edilizia scolastica che insieme all'assessore Baldelli diciamo la regione Marchia come dire sta percorrendo per gestire in futuro tutta l'edilizia scolastica tra cui anche gli aspetti legati alla ventilazione e alla sicurezza ma con dei finanziamenti importanti e anche con una prospettiva di innovazione per quanto riguarda la gestione velocemente questo è semplicemente l'iter abbiamo pensato il 18 gennaio con l'assessore di attivarci per la procedura il 31 agosto 2021 quindi il 31 agosto le opere saranno concluse sotto questo profilo ci sono degli aspetti come dire interessanti adesso senza che li guardiamo proprio velocemente ve li indico 187 comuni e province hanno partecipato poi li vedremo meglio dopo noi abbiamo fatto un bando come dire cercando di privilegiare l'aspetto della tempistica quindi non è un bando con una commissione con una gradatoria ma è un bando in cui si sono avvisati i comuni e le province di questa possibilità che poi andiamo a vedere nel dettaglio e poi era un bando sportello cioè a questo punto o si presentava la domanda o veniva accolta o veniva bocciata senza commissione cioè con un'istruttoria semplice in modo che pochi giorni dalla conclusione del bando venivano erogati già le prime somme dopo 10-15 giorni poco più le prime somme dell'anticipo del 30% e poi il 60% quindi anche come dire nella nostra normativa un po' complicata se riusciamo a avere la volontà e il lavoro di riuscire a far sì che le procedure siano più veloci su questo noi avevamo anche un aggravante avevamo anche una variazione di bilancio da fare l'assessore ce lo ricorda e quindi all'inizio eravamo un po' preoccupati invece poi siamo riusciti a gestire tutto nei tempi e quindi ci aspettiamo che il 31 agosto diciamo sotto le installazioni siano completate e ci sono due aspetti sotto questo profilo il primo quello che è già avvenuto quindi che abbiamo già attivato 2 milioni di euro 4 mila euro ad aula di impianto cioè ad aula 30% di ripartizione subito appena dopo pochi giorni dalla chiusura del bando che ripeto nel momento essendo sportello in cui sono arrivate le domande dopo 3 o 4 giorni sapevamo già l'elenco delle gradatorie 70% poi più avanti abbiamo fatto anche un altro aspetto su indicazione proprio dell'assessore abbiamo cercato di gestire il territorio della regione Marche andando a compensare alcuni aspetti anche di capacità diciamo da parte dei comuni quindi andando a fare una riserva per i comuni sotto 5 mila abitanti che per noi sono tanti sono importanti ma spesso hanno strutture tecniche magari leggermente meno attive dei comuni più grandi o con meno personale e quindi poi vedremo il risultato che è stato molto interessante quindi abbiamo pensato anche a rigestire in maniera a compensare diciamo l'intero territorio marchigiano con una serie di aspetti che sono stati anche prima evidenziati dall'ingegnere di Perna cioè chiaramente l'obbligo alla normativa al DM75 il fatto della rumorosità che quello sarà veramente una sfida importante vedremo poi i risultati perché l'abbiamo indicato poi bisogna andare a vedere esattamente come verrà realizzata per le scuole e qual sarà come dire il risultato e quindi poi una serie chiaramente di aspetti che sono quelli legati alle esigenze col secondo programma la regione Marche ha questi pochi giorni fa ha finanziato ulteriori 4 milioni di euro abbiamo deciso in questo caso di seguire lo stesso criterio precedente e quindi di utilizzare la gradatoria precedente quindi a questo punto non ci sarà un ulteriore bando proprio perché il bando era sportello quindi o si era accettato oppure no che arrivare primo o 27esimo era un aspetto così non così rilevante perché la qualità del progetto era uniforme per tutti quindi sotto questo profilo abbiamo già le risorse attiveremo quindi il decreto sappiamo già quali sono i comuni che rientreranno all'interno di questa gradatoria ci sarà solo una differenza che il primo finanziava province e comuni in questo caso il bando finanza esclusivamente i comuni questo perché le province hanno avuto in parte dei finanziamenti autonomi e in parte questi siccome il ministero ha deciso appunto che la parte scolastica delle province abbia diciamo un suo percorso autonomo quindi ha concentrato ha vincolato la regione Marche le regioni d'Italia a gestire ulteriori finanziamenti di questo tipo solo per i comuni finanziamenti in generale e non solo per l'edilizia scolastica ma in generale quindi come dire è un bando simile a quello precedente sempre con le stesse caratteristiche quindi nel primo aspetto nella primo bando abbiamo finanziato 25 comuni e 5 province nel secondo 62 comuni ognuno ha presentato due scuole quindi siamo un totale di 87 comuni con 5 province e quindi con più di 170 diciamo scuole finanziate questa è la suddivisione per provincia legate a più o meno 5 mila abitanti in arancione il nuovo finanziamento il blu è quello precedente quello che si poi vedrà anche da una planimetria che si nota è che alla fine hanno partecipato in maniera uniforme più o meno tutte le aree delle marche quindi non abbiamo come dire territori più sensibili e territori meno sensibili ma c'è una sensibilità importante comune perché noi abbiamo dato dei tempi ristretti quindi se un comune ha partecipato a questo bando ha realizzato un progetto e ha accettato la sfida di finire le opere in parte quelle già finanziate entro il 31 agosto vuol dire che ci ha creduto e sotto questo profilo è importante poi lo vedremo nella planimetria vedere come il risultato è stato omogeneo all'interno di tutti i territori sia costieri in confronto ai territori interni e sia le varie differenze tra province questo questo è l'aspetto per provincia chiaramente Ancona e Pesaro sono un po' più alte hanno più abitanti chiaramente di Fermo e Ascoli quindi fondamentalmente però non ci sono grandissime differenze ma c'è un'omogeneità di comportamento questi sono il numero delle aule quindi una provincia la prima è Pesaro le aule sono 168 per quelli di meno di 5.000 abitanti e 167 per quelle sopra che è la suddivisione all'incirca per aule come vediamo anche qui le scuole più o meno corrispondono hanno dimensioni omogenee sia per quanto riguarda in confronto ai territori quindi non abbiamo caratteristiche diverse ci potrebbero essere che ne sono le grandi città in Lombardia o in Lazio differenze tra le scuole urbane e quelle extraurbane come dimensione da noi abbiamo una certa omogeneità chiaramente quelle di territori interni sono un po' più piccole ma fondamentalmente sono omogeneine queste sono le intere le aule che noi andiamo poi a finanziare sono circa 1500 nel primo bando 150 per le province 350 per i comuni e nel secondo circa 1000 quindi stiamo attivando un percorso che non è solo un percorso come dire propedeutico per il futuro ma è concreto e immediato perché anche il numero di aule che stiamo gestendo sono importanti questi sono i territori che hanno fatto richiesta che noi stiamo finanziando come vedete adesso i colori indicano il numero delle aule più o meno hanno il numero delle aule quelli più scuri hanno più aule le scuole quelle chiare meno e sotto questo profilo come vediamo stiamo finanziando in generale tutti i territori interni i territori della costa il comune di Falconara il sindaco qui presente quindi lo stiamo finanziando si vede perché è lungo la costa quindi stiamo finanziando tutta una serie di comuni che sono sotto questo profilo all'interno del territorio del territorio regionale questo è il patrimonio complessivo come nella scelta della regione anche di finanziare i comuni deriva nel secondo aspetto come vediamo dalla parte di destra che nel totale delle 1401 scuole la maggior parte delle scuole sono di gestione comunale chiaramente che non sono le secondarie di secondo grado che sono 1176 e quindi sotto questo profilo anche che il secondo mando sia vincolato sia diciamo anche importante perché sono gli enti locali che hanno un numero di scuole maggiori e spesso anche difficoltà economiche maggiori visto appunto che le province hanno di finanziamento autonome c'è un tema generale e poi concludo la regione Marche in questo periodo sta gestendo per l'edilizia scolastica sta gestendo per l'edilizia scolastica delle cifre veramente importanti stiamo parlando comprese le aree del terremoto su aree fondi superiori di 500 milioni di euro e sotto questo profilo sono fondi noi non stiamo vedendo in questo momento la realizzazione ma che sono fondi che si stanno attivando in questo momento e nei prossimi anni quindi quello che ci possiamo immaginare poi vedremo una planimetria e che non c'è solo un tema come dire urgente immediato della ventilazione meccanica legata chiaramente al covid che come si diceva prima chiaramente è separato dal tema strutturale perché è utile in ogni caso immediatamente il più velocemente possibile ma noi abbiamo invece anche un tema di capire quali saranno le nostre scuole cioè con queste cifre con queste possibilità di finanziamento di con chi ci vengono poi erogate ogni anno tra l'altro del ministero ripeto questo c'è un caso eccezionale che è legato al terremoto che comunque si sta attivando tutta la parte legata al terremoto ma c'è un tema proprio di gestione dell'edilizia scolastica quello che pensiamo insieme all'assessore insieme agli uffici è di cominciare a costituire dei bandi a costruire dei bandi dove mettiamo all'interno degli aspetti come dire innovativi cioè non diciamo semplicemente non riprendiamo semplicemente il bando del ministero per dire chi ha un progetto esecutivo prende un po' di punteggio la tensione abitativa o altri aspetti legati chiaramente all'aspetto comunità sociale legati alle caratteristiche del comune ma quello che pensiamo è cominciare ad attivarci a dare dei premi ulteriori quindi a dei punteggi in gradatoria a comuni che sviluppano progetti attenti alla ventilazione meccanica attenti al consumo energetico attenti anche alla parte sismica perché spesso sono nuove scuole stiamo vedendo che per la maggior parte spesso conviene costruire nuove scuole piuttosto che ristrutturare quelle esistenti legando la parte sismica alla parte energetica e oltre questo anche aspetti come dire magari più semplici dare punteggi alle scuole che prevedono dei parcheggi coperti per le biciclette perché arrivare in biciclette magari piuttosto che prendere l'autobus vuol dire anche lì gestire meglio l'aspetto ambientale quindi quello che stiamo pensando come assessorato è concentrarci velocemente e lo stiamo facendo sulla ventilazione meccanica perché è veramente urgente vuol dire sotto questo profilo dare qualità alle scuole come abbiamo sentito prima non solo legato al covid ma in generale e far sì che strutturalmente le scuole abbiano delle prestazioni anche sotto l'aspetto chiaramente impiantistico e di areazione ma in generale nettamente più elevate di quelle di oggi pensando anche per esempio in alcuni aspetti per quanto riguarda i territori interni che le strutture scolastiche sono il principale edificio pubblico di alcuni comuni soprattutto i più piccoli quindi sotto questo profilo non sono solo una scuola ma sono anche il luogo pubblico dove non so incontrarsi dove poter quindi attivare anche una vita diciamo legata proprio al comune e quindi sotto questo profilo immaginare che siano strutture sismicamente sane ideali sotto l'aspetto dei ricambi d'aria impiantistica e anche come dire con una certa flessibilità per utilizzi non solo scolastici questo chiaramente soprattutto per i territori interni peraltro architetto Goffi credo che l'ingegner di Perna ci potrebbe confortare in questo tanto più le scuole nuove che sono molto ben isolate hanno bisogno di una ventilazione meccanica controllata quindi è obbligatorio questa è una planimetria dove fa vedere tutte le parti colorate sono comuni dove arriveranno nei prossimi mesi dei finanziamenti e saranno necessari chiaramente da parte dei comuni di realizzare dei progetti quindi stiamo modificando in realtà come dire non è un caso eccezionale ma veramente la regione è molto importante il ruolo della regione in questo anche nell'affiancamento dei territori avete che tipo di affiancamento date agli uffici tecnici che vogliono agire sì noi stiamo facendo questo abbiamo insieme ad altre regioni insieme al ministero abbiamo una struttura che collabora con i comuni per quanto riguarda la parte tecnica quindi sotto questo profilo in realtà si potrà forse pensare anche aspetti legati alla formazione immaginiamo però sotto questo profilo la regione chiaramente è disponibile noi siamo elente che riceve parte dei finanziamenti chiaramente dal ministero ma elente che coordina che fa i bandi e che poi gestisce i propri finanziamenti e quindi insieme ai comuni e insieme anche a una task force insomma a un gruppo di lavoro composto da più regioni dal ministero diamo supporto ai comuni per quanto riguarda gli aspetti procedurali e gli aspetti tecnici grazie mille architetto Goffi di questa presentazione anche sintetica e chiara assessore Baldelli è molto importante che questo progetto al di là dei numeri adesso lei ce li ripeterà ce li riassumerà ma deve diventare una best practice perché in qualche modo la politica deve comprendere questo anche perché lo abbiamo visto lo commentavamo prima ad esempio con i bonus edilizi la ventilazione meccanica controllata ahimè non è stata presa in considerazione quindi noi anche con questi bonus stiamo isolando le nostre case e non le ventiliamo ora dalla scuola può arrivare un fortissimo esempio anche possono essere i ragazzi che spiegano alle loro famiglie e l'importanza di questi tipi di tecnologie e allora è molto importante che voi riusciate a portare ad un ad un tavolo anche governativo e come esempio per altre regioni quindi io vorrei che lei partisse di qui e poi le lascio la parola sì io parto da ringraziare tutti coloro i quali mi hanno preceduto perché sono stati particolarmente chiari nel esprimere concetti che a volte risultano difficili per le nostre comunità risultano talmente difficili che noi in questi giorni stiamo parlando di didattica a distanza o di ritorno a scuola in presenza e sentiamo parlare solo di vaccinazione è evidente che i comportamenti umani lo abbiamo detto in precedenza sono importantissimi al fianco alcuni comportamenti umani al fianco della vaccinazione non voglio far polemica su questo io sono un vaccinato noi dobbiamo garantire degli edifici in grado di poter far rimanere in presenza i nostri ragazzi perché mi ha impressionato la dichiarazione di pochi giorni fa di un ragazzo che si è appena diplomato un liceale che ha descritto la sua esperienza con la didattica a distanza nell'ultimo anno anno e mezzo mi sono segnati quei termini oscurità monotonia nebbia imbroglio e omertà imbroglio e omertà perché a distanza si spegneva lo schermo magari durante l'interrogazione lo dichiarano il ragazzo ma siamo stati tutti studenti quindi è una sfida a volte tra l'insegnante tra il docente e il ragazzo sia in presenza che non ma questo ragazzo ha voluto sottolineare che cosa stesse accadendo con la didattica a distanza poi c'è l'oscurità la monotonia la nebbia che dà l'idea del riflesso che ha avuto la didattica a distanza negli aspetti psicologici nei rapporti umani che questi ragazzi non hanno potuto più intrattenere tramite la scuola che è il principale strumento attraverso il quale noi formiamo la classe dirigente del futuro e se vogliamo fare questo dobbiamo cominciare a diffondere la cultura dei buoni comportamenti delle migliori pratiche di quelli che sono a volte parliamo di salute di sanità e leghiamo tutto alla presenza degli ospedali sui territori importantissimi presidi per garantire il dilitto alla salute ai nostri concittadini e noi stessi ma non dimentichiamoci che sulla salute incindono i determinanti sociali della salute tra i determinanti sociali della salute ci sono anche gli ambienti in cui viviamo e quindi dobbiamo garantire la salubrità di quegli ambienti quindi io che prima di ricoprire questi incarichi ero sindaco il sindaco non è realtà qui vedo alcuni ex colleghi in una realtà medio medio piccola per le marche di circa 7000 abitanti sentivo la distanza delle istituzioni sapevo e conosco e continuo conoscevo e continuo a conoscere la difficoltà di rappresentare le istituzioni quali quelle delle amministrazioni comunali quindi i sindaci sono dei piccoli eroi dei nostri tempi ma li dobbiamo aiutare a seguire un percorso quindi la regione non si è voluta sostituire i sindaci proprietari degli immobili o ai presidenti di provincia proprietari degli istituti scolastici ma ha voluto indicare una strada che è quella di cominciare a realizzare degli interventi che siano strutturali che siano presenti su tutto il territorio regionale per cominciare a ragionare anche sull'applicazione di norme che noi abbiamo da decenni che nessuno mai ha tenuto in considerazione e nessuno ha mai finanziato adeguatamente per garantire la sicurezza e la presenza in aula dei nostri ragazzi dei docenti e degli operatori la regione ha voluto fare questo e vuole continuare a fare questo come? con un investimento iniziale di 2 milioni alcuni ha eseguito uno proprio della settimana scorsa di ulteriori 4 milioni con cui andiamo a coprire 1500 aule della nostra regione e vorremmo garantire la presenza in aula dei nostri studenti in questo caso gli studenti e gli alunni coinvolti saranno circa 14 mila questo può innescare ulteriori interventi dei proprietari degli immobili e comuni e le province che molto spesso però vivono in una difficoltà economica rilevante i loro bilanci sono sempre stretti perché poi le esigenti dei cittadini sono davvero davvero tante abbiamo indicato la strada anche al governo nazionale se ne è parlato durante le consultazioni nella formazione del nuovo governo che ha cominciato a gettare un piccolo seme 150 milioni da destinare comuni e le province per garantire la salubrità dell'aria ma anche qui dobbiamo essere chiari dobbiamo creare una normativa che renda obbligatorio l'adeguamento dei nostri edifici se no i nostri sforzi potrebbero essere vanificati dal fatto che non riusciremo a raggiungere tutte le nostre scuole tutte le nostre aule anche se oggi l'impegno del Presidente Acquaroli il mio e anche dell'assessore all'istruzione discorre quella bellissima gradutoria che gli uffici vedo qui presenti il dirigente alcuni funzionari abbiamo redatto in tempi rapidissimi per vedere quale potesse essere la sensibilità dei comuni e delle province e devo dire che nella nostra regione è stata particolarmente elevata ma quanto pensa che sarà una norma a cambiare le cose piuttosto che non quelli che saranno magari i risultati di questa diciamo sperimentazione perché di fatto siete stati coraggiosi lo dicevo prima perché comunque avete sfidato anche delle consuetudini in cui nei bandi appunto ci sono delle lungaggini burocratiche che sono giuste corrette ma in questo caso era necessario lavorare molto sui tempi e quindi siete stati coraggiosi in questo senso allora quanto pensa che possa essere l'esempio di quello che potrà venire fuori cioè questi ragazzi che vivranno la scuola magari ammalandosi di meno potranno in qualche modo dare loro l'esempio fattivo che è meglio di mille norme no? alle volte sì soprattutto perché le nostre norme per come sono i rapporti istituzionali che sono stati congegnati i rapporti istituzionali in Italia arrivano sempre un po' in ritardo quindi io credo tanto nell'azione che potremmo fare con i sindaci con i presidenti delle province in modo particolare con i sindaci che sono al fronte il contatto quotidiano con le famiglie con gli insegnanti con i ragazzi questa sensibilizzazione che può avvenire indirettamente anche dal semplice passaparola perché dobbiamo pensare anche questo io vedo lo dirò dopo agli amici della stampa ci siamo tanti concentrati tanto concentrati su alcune azioni ma non su altre che strutturalmente possono risolvere o possono contenere o possono diluire la carica virale del covid-19 e non ci siamo concentrati su azioni che sembrano tanto semplici quanto facilmente realizzabili abbiamo passato un anno e mezzo due anni ancora non abbiamo aule se non quelle di nuova generazione negli edifici di nuova generazione che hanno la ventilazione meccanica controllata abbiamo tenuto i nostri dipendenti pubblici a casa ma nel frattempo non abbiamo adeguato i nostri stabili con la ventilazione meccanica controllata per farli ritornare in presenza è chiaro che abbiamo delle responsabilità evidenti allora io credo nella classe dirigente di questo paese partendo dai comuni credo nella sensibilizzazione delle nostre comunità ma credo quello che poi prima c'è nato anche il professor di perna lavoreremo con l'università e con gli altri enti con quale ci potremo approcciare perché una volta finanziati e messi a terra questi interventi andremo anche a misurare i risultati di questi interventi andremo a misurare e faremo dei confronti fra quello che accade nelle aule dove sono stati installati impianti anche di diversa tipologia di ventilazione meccanica controllata quindi questa reazione forzata e quelle aule dove questo non è accaduto anche con i risultati sulla salute dei nostri ragazzi lei prima ha portato un esempio che penso sia di tutta evidenza che dimostra come questi interventi non risolvono soltanto il problema del covid ma abbattono la presenza anche di altri inquinanti oltre che abbattono anche la diffusione di altre malattie che si propagano per via aerea si diffondono per via aerea parlavamo dell'influenza e diceva il professor prima Delrico che l'influenza non è una banale malattia noi riusciamo ad abbatterla con la ventilazione meccanica controllata nelle nostre aule e io credo anche che il ministero della salute dovrà prendere in forte considerazione anche questa tipologia di interventi perché abbatteremo anche i costi di gestione della sanità nel nostro paese inducendo anche indirettamente dei comportamenti umani corretti che vengono descritti dalla norma dal 1975 io ancora devo trovare delle aule nei nostri territori che rispondano a quella norma che in parte o in alcuni aspetti è anche superata quindi dovremmo anche andare a rivedere la normativa vigente Assessore in questo bando chiaramente avevate un problema di tempo e avevate la necessità di andare a macchia d'olio il più possibile cercando di non mi scusi dico macchia d'olio ma a cercare di prendere il maggior numero di popolazione possibile quindi tutti coloro che potevano rispondere li dovevate mettere in condizioni in futuro non so se ci saranno iniziative specifiche su questo ma nel caso dovessero esserci così come appunto nei bandi che voi farete state pensando di dare delle premialità molto più spinte a chi fa meglio perché poi investire sulla qualità non deve essere sempre solo un problema di bruciare i tempi ma ci deve essere un lavoro anche in questo senso quindi andare a mettere anche degli impianti più magari strutturati laddove la scuola più è pronta anche a riceverli perché poi è una questione che abbiamo sentito prima con l'ingegner di Perna ogni scuola deve poi fare i conti con la sua forma il modo in cui è organizzata l'organizzazione degli spazi e via dicendo sì come anticipava prima l'architetto Goffi è una questione di indirizzi la nuova giunta regionale e l'assessorato all'edilizia scolastica ha dato un indirizzo ben chiaro ai nostri uffici che non avevano ricevuto in precedenza ho visto e anche io ho dovuto deliberare dei finanziamenti su degli interventi di edilizia scolastica molto interessanti molto importanti ma che non avevano all'interno una carica innovativa i nuovi bandi porteranno e su questo faremo un tavolo di lavoro perché dobbiamo confrontarci con tutte le realtà che possono trasferire alla regione Marche un contributo di idee un contributo di innovazioni per scrivere dei bandi che tengano in presente in grande portino all'attenzione queste nuove esigenze dovute in parte alla pandemia dovuto in parte anche alla necessità di costruire degli edifici che abbiano come caratteristica fondamentale la sostenibilità io ancora giro per la nostra regione vedo interventi sull'edilizia scolastica che non tengono in considerazione questa nuova esigenza che abbiamo non tengono in considerazione l'efficientamento energetico non tengono in considerazione la necessità che ci siano degli ambienti salobri non tengono in esigenza che la priorità per la regione Marche come per qualsiasi altro ente pubblico deve essere la salute dei nostri ragazzi abbiamo scuole ad esempio anche laddove possibile che non hanno spazi verdi che non hanno spazi per le attività sportive che non hanno spazi per il ricovero delle biciclette che non tengono in considerazione la necessità di limitare il consumo energetico e allora vogliamo fare tutto questo lo vogliamo scrivere in dei bandi premiando quei comuni che si dimostrano essere fortemente innovativi questo lo vogliamo fare vedo il professor Delrico lo vogliamo fare col professor Delico e con i suoi colleghi vedo l'ingegner di Perna lo vogliamo fare con l'università Politecnica delle Marche con le altre università marchigiane ma lo vogliamo fare anche con gli ordini professionali quindi condividere un percorso che sia poi di sostegno e ai comuni come lo è questo seminario odierno stiamo gettando un seme che darà un germoglio che io penso che in breve tempo con la partecipazione il contributo di tutti diventi una pianta grande solida e che potrà dare degli ottimi frutti in questa regione e io penso possa essere imitata anche dai nostri amici delle altre regioni italiane voi adesso avete stanziato questi fondi avete riscontrato da parte dei comuni delle problematiche erano sufficienti questi fondi che avete stanziato avete già un riscontro da questo punto di vista abbiamo un riscontro del grande interesse perché in pochissimi giorni abbiamo trovato donna percentuale faccio a mente circa tra il 70 e l'80% di comuni degli enti locali che hanno partecipato al bando e che ci hanno permesso di formare una gradatoria ciò significa che i sindaci avevano ben presente questa esigenza proprio per questo abbiamo incrementato le risorse lo faremo anche in futuro ricordando che però noi non possiamo sostituirci c'è il governo nazionale che ha investito oltre un miliardo nella sicurezza scuola e poi ci ha parlato di banchi a rotelle io credo che dovremo parlare di interventi strutturali ben più seri come stiamo facendo ora ed è evidente che è imprescindibile l'intervento del governo anche tramite la regione per attivare dei percorsi virtuosi questo seminario di oggi è di sprono al non solo agli enti locali ma anche alle istituzioni gerarchicamente sovraordinate per tracciare questa strada voi avete dato dei soldi e state dando un grosso aiuto alle scuole per mettersi al pari con questa ventilazione meccanica controllata poi c'è tutto il tema lo diceva prima il professor di perna della manutenzione come intendete supportare chi dovrà poi manutenere anche questi impianti verificare che anno dopo anno siano sempre puliti e abbiano sempre l'efficienza dichiarata e quindi anche come riuscirete a innescare questo circolo virtuoso perché anche chi riceve in dono una ventilazione meccanica controllata poi se ne prenda cura perché anche questo è importante nei nostri bandi abbiamo previsto intendiamo prevedere dei controlli organici su tutto il territorio affinché gli interventi vengano ben realizzati possono essere utilizzati tecnologie di tipo diverso l'abbiamo visto in precedenza quindi monitoreremo anche l'efficacia di queste tecnologie ma lo abbiamo detto andiamo incontro anche a dei bandi che verificheranno la qualità degli interventi laddove è necessario segnaleremo agli enti locali la necessità di ulteriori interventi anche a futura memoria perché i bandi pubblici dovranno anche prevedere non solo questi controlli ma anche la possibilità in futuro di revocare il finanziamento qualora l'intervento non fosse stato seguito attentamente per raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati quella meritocrazia che deve essere un po' ovunque a livello istituzionale però va misurata perché se no non misuriamo gli interventi che facciamo rischiamo di disperdere tante risorse e a questo teniamo particolarmente ma d'altronde anche l'attenzione di alcuni sindaci ovviamente abbiamo dovuto limitare visto il periodo la presenza fisica ma l'interesse dei sindaci ci ha dimostrato che siamo sulla strada giusta io credo che non ci sia nemmeno la necessità di imporre con regole un percorso ma abbiamo iniziato una sensibilizzazione che non nasce dall'alto ma per la prima volta nasce dal basso e si rivolge verso l'alto io non so se tra i presenti ci sono delle domande ecco un paio di domande ci sono vediamo di raccoglierle non so se qualcuno mi può aiutare con un microfono a gelato chiedo alle persone che hanno le domande magari di avvicinarsi così possono fare la microfono prego grazie grazie mille sì buongiorno Antonello Gasperi dirigente scolastico di Sassoferrato sono dirigente in regenza a Sassoferrato e intanto complimenti per l'iniziativa e credo che sia vincente il fatto di puntare sulla ventilazione meccanica controllata e complimenti ti faccio anche al comune di Sassoferrato che ha saputo vincere il bando anche con una città considerevole tra l'altro questo si inserisce in un quadro che vede il comune di Sassoferrato particolarmente sensibile al mondo della scuola la domanda che voglio fare è quella al professor De Rico ho sentito parlare di aggiunte al sistema di ventilazione meccanica controllata di aggiungere impianti di sanificazione io ho avuto quest'anno per esempio dei genitori che mi hanno chiesto non a Sassoferrato a Fabriano un impianto di sanificazione cioè di un purificatore dell'aria io insistevo dicendo che magari vale più forse magari un ricambio d'aria che purificare l'aria che comunque è sempre quella della stanza in ogni caso siccome era una classe molto numerosa 29 alunni ho preferito comunque anche per mantenere insomma un buon clima relazionale con i genitori comprare il purificatore che abbiamo per il quale i genitori hanno contribuito per il 50% e comunque sempre con un ricambio che ho chiesto di aprire le finestre ogni ora effettivamente vista l'efficacia di un impianto di ventilazione meccanica controllata vale la pena aggiungere anche un ulteriore filtro o comunque filtri oppure impianti che ultimamente mi è stato conosco uno che spruzzava anche un prodotto tra l'altro a questo impianto e questo lo dico adesso a livello provocatorio potrebbe incorrere anche ad un problema inverso cioè far crescere i bambini in un ambiente assolutamente asettico non è proprio il massimo adesso questo ripeto magari può generare discussione lo dico così a livello provocatorio sì io la domanda che mi aveva fatta la dottoressa Voci era sulla sanificazione che noi chiamiamo in ospedale ad olio di gomito cioè se io passo un sanificante sulle superfici in questo caso la dottoressa aveva fatto l'esempio dell'alcol dice comunque devo avere una ventilazione perché l'alcol voi sapete evapora è tossico quindi i sanificanti che vengono utilizzati in questo senso non avevo accennato non avremo mai ambienti asettici io questo lo voglio ribadire tutto quello che ci siamo detti che sia chiaro il messaggio noi andiamo sulla probabilità di ridurre il rischio ma noi anche la sala operatoria non è sterile e abbassa contaminazione microbica quindi l'obiettivo anche nell'ambito di ambienti indore quindi anche delle scuole è quello di ridurre la carica microbica ma se io ho una malattia virulenta io posso adottare qualsiasi sistema virulenta significa altamente contagiosa se io sto vicino a un mio amico di banco e ho l'impianto a contaminazione controllato sanificato ma io gli parlo vicino è evidente se io ho una malattia estremamente virulenta il mio compagno di banco la prende però l'ottica di questi sistemi come quello della sala operatoria abbiamo visto io ho detto abbiamo azzerato le infezioni chirurgiche le abbiamo ridotte notevolmente quindi l'obiettivo di mettere in atto tanti sistemi per ridurre la probabilità di trasmissione quei sistemi che dice lei allora noi nelle aree di attesa per esempio se persone devono fare le sottoporsi alla chemioterapia abbiamo messo questi sistemi che prendono l'aria dall'ambiente dove sono sedute le persone filtrano con filtri assoluti perché non c'è il ricirco quindi li filtra in maniera assoluta e li rimetti in ambiente perché abbiamo di ricambi area ora che sono 1,52 quindi siccome poi gli ambienti di degenza sono affollati per incrementare il recupero di area purificata questa ottica può essere un'aggiunta però guardi le garantisco che gli ambienti considerati asettici ma nel senso che non ci sono più germi non esistono le famose camere bianche ma dove si arriva a livello ma sono tutte a bassa contaminazione microbica in più forse io potrei anche integrare questo non so se il professor di perna poi mi dà conforto ma sono due tecnologie che a parte la filtrazione di cui parlava lei ma così anche la ionizzazione e la fotocatalisi sono tecnologie diverse che peraltro moltissime case produttrici di ventilazione meccanica controllata stanno integrando all'interno dei loro sistemi anche centralizzati perché sono tecnologie che possono essere combinate è chiaro che vanno dimensionate anche correttamente perché poi su tutti questi sistemi stand alone che si mettono all'interno di una stanza sono efficaci o non sono efficaci dipende da qual è il contesto sono correttamente dimensionate e per il numero di persone che ci stanno dentro c'è sempre un'attenzione da fare in questo senso ma io penso che appunto non si debba buttare via ciò che c'è quello è una tecnologia in più che è efficace ha anche una serie di test però appunto lascerei parlare chi è più esperto di me no io direi che la VMC con l'aria esterna è la cosa migliore lei prende aria esterna che ha tantissime proprietà che abbiamo visto anche indicate dal professor Terrico e la immette nell'ambiente ogni 20 minuti è è la cosa migliore perché è vero che si infetta il ragazzo seduto vicino ma se lei ogni 20 minuti rinnova con l'aria esterna quello che sta magari a 3-4 metri non si infetta si infetta solo il vicino e noi dobbiamo prendere l'aria esterna non dobbiamo riciclare la stessa perché perché altrimenti sì possiamo abbattere ma di quanto questo fenomeno dovuto alla possibilità di non far infettare le persone a una certa distanza lo si vede solo con la WMC dell'aria esterna il famoso ristorante il primo faceva vedere come i tavoli che gli stavano vicino si infettavano quelli distanti no e poi quelli vicini si infettavano perché c'era lo split che rinnovava che riciclava l'aria quindi anche nello split c'è un sistema di filtrazione no però secondo me non è sufficiente la cosa migliore è WMC con quelle portate d'aria che abbiamo detto e con l'aria esterna pulita e non c'è alternativa secondo me poi si può integrare anche con sistemi indoor tra virgolette però non ha lo stesso effetto questo è quello che secondo me va chiaro sì sì e sono sistemi integrabili che giustamente hanno azioni diversi ma non possono essere sostituiti l'uno all'altro assolutamente assolutamente perché tanto comunque l'aria che lei ricircola è sempre la stessa certo quindi o abbatte covid con quei sistemi ma paura che non ce la fa altrimenti devi prendere l'aria dall'esterno c'era un'altra domanda che alle spalle del professore Alessandro Ranieri di Arancia Television più che una domanda è una precisazione abbiamo visto dall'architetto Goffi che c'è questa data il 31 agosto come fine lavori e quindi la domanda è per l'assessore quindi diciamo lei qual è la sua confidenza nel vedere entro settembre tenga più vicino il microfono grazie qual è la sua confidenza nel vedere entro settembre quando ripartiranno le scuole ecco questi sistemi nei comuni che chiaramente hanno fatto i lavori efficienti e quindi visto che il titolo è eliminare la DAD qual è la sua confidenza nel scongiurare questa cosa mi rendo conto che magari è anche una domanda da fare all'assessora all'istruzione però insomma adesso c'è lei grazie io la ringrazio per la domanda abbiamo messo delle scadenze proprio perché abbiamo realizzato un percorso per l'installazione della ventilazione meccanica controllata particolarmente semplificato io dico anche coraggioso da parte dei nostri uffici regionali per permettere a settembre di sperimentare già in molte aule della nostra regione questo strumento che riducendo diluendo la carica virale può permettere la presenza dei ragazzi in aula per cui abbiamo tracciato un percorso ora chiaro le uniche difficoltà che possono incontrare i comuni anche per questo gli abbiamo dato subito una liquidità in mano quindi potevano esserci comuni tecnicamente che avevano delle difficoltà di cassa abbiamo dato una anticipazione proprio per innescare questo meccanismo l'unico problema è che siamo in un contesto geopolitico come tutti sappiamo particolare in cui alcune nazioni del mondo hanno fatto incetta di alcuni materiali quindi potremmo avere l'unica difficoltà di non reperire i materiali necessari per l'installazione della ventilazione meccanica controllata quindi siamo dalla parte dei comuni nell'accelerare al massimo l'intervento prendendo però oggettivamente in considerazione anche queste difficoltà a cui dovremmo far fronte in questo mondo globalizzato in cui non incontriamo solo problemi di salute ma da parte di alcune nazioni anche il problema di accaparramento di alcune materie prime che ci preoccupa che ci preoccupa particolarmente peraltro assessore c'è anche mi diceva che anche sui trasporti sta cercando di intervenire forse questo è importante dirlo sì oggi sarebbe stato interessante avere qui con noi anche l'ottimo collega Guido Castelli che è l'assessore ai trasporti che però è impegnato siamo un po' divisi in giro per la regione in giro per i ministeri perché stiamo lavorando è chiaro che per alcuni livelli scolastici la ventilazione meccanica controllata potrebbe ridurre al minimo il pericolo di contagio pensiamo alle scuole dell'infanzia o alle scuole primarie dove è meno impattante il trasporto altri livelli scolastici dove è fortemente impattante il trasporto in una nazione che investe poco nel trasporto pubblico lo dobbiamo dire nel trasporto pubblico locale la regione Marche tra l'altro è tra le mine meno finanziate dal governo nazionale sul trasporto quindi il collega Castello ha incontrato un gravissimo problema anche di sottofinanziamento stiamo lavorando con le società marchigiane affinché tutti i nuovi mezzi siano dotati di sistema di ventilazione meccanica controllata quindi si è studiato il ricambio dell'aria forzato all'interno degli autobus che non avvenga solo come avveniva in passato con l'apertura la chiusura delle porte dell'autobus tanto si aprono in maniera molto frequente ma il ricambio dell'aria deve essere controllato in tutto l'ambiente che è vissuto dagli utenti del mezzo e alcune società stanno adeguando anche gli autobus che hanno già in dotazione entreremo nel dettaglio anche in questa tipologia di intervento perché la pandemia ci ha insegnato molto e siccome ci ha insegnato molto dobbiamo saper apprendere e rispondere politicamente e con gli atti amministrativi a questa esigenza l'assessore Castelli lo sta facendo perché ha una grandissima sensibilità anche sul tema insieme all'assessore all'edilizia scolastica e insieme all'assessore all'istruzione che abbiamo sentito in precedenza in un approccio integrato che è sempre la soluzione migliore per prego sì buongiorno a tutti allora io sono Stefania Signorini sono dirigente scolastico del liceo Cambi e del Serrani di Falconara e sono sindaco di Falconara quindi apprezzo moltissimo questa iniziativa diciamo da entrambi i punti di vista da entrambe le prospettive quindi ringrazio della giunta regionale e l'assessore Giorgio Alattini che appunto ha espresso questa sensibilità e l'assessore Francesco Baldelli che secondo me proprio in qualità di sindaco di esperienza di sindaco ha quella cortezza e quello sguardo molto importante per chi amministra una regione dal mio punto di vista io ecco vorrei inserirmi rispetto al discorso del piano triunale dell'edilizia scolastica perché chiaramente anche Falconara insieme a tante altre realtà ha anche il problema appunto di adeguamento sismico e strutturale delle scuole e per ogni comune questa è una spesa che incide fortemente nel bilancio come si può immaginare quindi diventa fondamentale direi proprio imprescindibile il contributo della regione mi piace molto questa prospettiva che è stata presentata cioè l'idea di una task force di una discorso di un ragionamento che porti poi soluzioni anche innovative mi piaceva sapere un po' l'orizzonte temporale di questo tipo di intervento e ringrazio l'assessore per questo grazie sindaco ringraziando te perché ci diamo del tu per la tua presenza ringrazio gli amici di Belforte di Macerata di Sassoferrato l'amico sindaco di San Lorenzo in campo con cui abbiamo condiviso da sindaco anche una parte del percorso perché tra l'altro avevamo circoscrizioni amministrative confinante e sono due realtà del tutto simili per cui ti ringrazio anche per i complimenti perché effettivamente mi sento non solo assessore regionale mi sento anche un rappresentante dei sindaci nella giunta regionale e per questo affrontavamo con gli uffici la dottoressa Borocci l'architetto Goffi il problema del piano trennale entro l'anno vorremmo presentare questo piano oltre ai dati che prima ha comunicato l'architetto Goffi di circa vado a memoria 536 milioni di euro che investiremo nell'edilizia scolastica tra interventi che riguardano le aree del sisma e tutte le altre aree marchigiane non colpite dal sisma vorrei informare gli amici sindaci e presidenti delle province che abbiamo chiesto ulteriori 200 milioni di euro sui fondi del recovery per dare una iniezione vera ai comuni e alle province di liquidità e di risorse per adeguare i nostri istituti scolastici non li possiamo costruire tutti nuovi ma possiamo adeguare alcuni o molti di questi istituti sia alle necessità legate alla vulnerabilità sismica sia all'efficientamento energetico sia a tanti altri aspetti che sono collaterali alla scuola ma importantissimi nell'educazione dei nostri ragazzi io continuo a dire aree verdi aree all'aperto per le attività fisiche e per l'educazione dei nostri giovani perché la prima preoccupazione di questa giunta regionale è la sicurezza la salute dei nostri ragazzi e non dimentichiamo mai di tanti operatori che stanno all'interno degli immobili che ospitano gli istituti scolastici ma anche la continuità negli interventi ecco perché è necessario un tavolo di lavoro che convolga tutti che sia rappresentativo di tutti i portatori di interessi per costruire questa strada e questo percorso che attivi tutte le sinergie che possiamo attivare all'interno della nostra regione ce ne sono tanti ci sono tante forze tante competenze e noi le vogliamo tutti all'interno di questo progetto c'è una domanda ancora in fondo buongiorno mi chiamo Buccioni in provincia di Pesola servizio edilizia complimenti per l'iniziativa è veramente lodevole che ci mette in prima linea su queste questioni mi riaggancio un po' all'osservazione che faceva l'assessore dovendosi sempre confrontare con esercizi di bilancio molto risicati i pandi che potrebbero venire alla luce potrebbero contemplare anche oltre che alla sola fornitura delle apparecchiature anche la posa in opera l'installazione perché ci troviamo sempre nell'impasto di andare poi a trovare risorse per poter mettere in funzione e applicare queste apparecchiature nelle aule allora stiamo cercando di come sapete abbiamo previsto nel bando un contributo di 4 mila euro ad aula però non abbiamo previsto contestualmente la compartecipazione economica questo perché di solito i bandi prevedono la compartecipazione economica abbiamo voluto dare un ammontare complessivo per lasciare maggiore libertà agli enti province in questo caso e comuni ma anche per cercare di attivare ulteriori risorse che non possono essere esclusivamente regionali perché non potremo far fronte a esigenze di circa 200 mila studenti che abbiamo nella nostra regione però chiediamo insieme a noi ai comuni e province di sollecitare gli enti sovraordinati cioè il ministero a indirizzare bene le tante risorse che il ministero ha già a disposizione per completare questi progetti abbiamo 150 milioni annunciati dal governo Draghi vorremmo che quei 150 milioni fossero messi a terra ma abbiamo proprio credo sul sole 24 ore di oggi o dei giorni scorsi letto che il ministro Bianchi ha parlato di una capacità economica di un miliardo e sei un miliardo e sette vorremmo tracciare insieme a voi anche insieme ai tecnici dei comuni e delle province dirigenti scolastici e ovviamente i comuni tracciare una strada e soprattutto fare quella pressione positiva sul governo nazionale perché quel miliardo e rotti di euro non vengano dispersi come già stato fatto in precedenza a lei come a me sarà capitato di vedere gettati nei magazzini banchi a rotelle evitiamo meno operazioni spot e concretizziamo più con interventi che la scienza e la tecnica ci hanno individuato come i migliori e io dico anche i più banali per garantire la salubrità delle nostre aule e credo che anche i presidenti di provincia come i sindaci abbiano capito che una parte di quei bilanci possano essere indirizzati per migliorare per potenziare il contributo che la regione sino ad oggi ben 6 milioni di euro ha potuto erogare a comuni e a province bene io direi che è stata una mattinata molto intensa io ringrazio la regione per avermi voluta qui perché è molto interessante questo confronto credo che ci sia una responsabilità anche da parte di chi fa il mio lavoro nel dover diffondere questa notizia spiegandola bene non è facile perché entrare nei termini tecnici e avere la competenza appunto i professori che hanno parlato hanno delle lauree e hanno studiato anni per questo e per un giornalista non è mai facile affrontare questi temi però credo si possa anche dar voce a chi questi temi li conosce per portare delle notizie il più possibile corrette per ciò che riguarda questa mattinata credo che sia una mattinata formativa davvero e quindi invito tutti ad andare a rivedere le registrazioni che sono state fatte e a diffonderle anche quindi diffondete la notizia per chi non avesse potuto seguire in diretta questo evento che questo evento c'è esiste e soprattutto queste relazioni che sono state realizzate le relazioni tecniche perché poi il bando si può anche leggere ma queste relazioni sono un contributo importantissimo che la regione sta mettendo sul piatto perché di fatto sono degli eventi formativi io ringrazio tutti ringrazio i relatori quindi il professor Delrico il professor Di Perna l'architetto Goffi ovviamente ringrazio l'assessore Baldelli e noi ringraziamo lei grazie grazie adesso io chiedo all'architetto Goffi e all'ingegnere se si siedono di fianco a me perché abbiamo dei rappresentanti della stampa che probabilmente nel punto stampa ci potranno fare delle domande o gli sintetizziamo un po' il contenuto di questo seminario allora iniziamo questo incontro con la stampa credo che ci sia anche qualche giornalista collegato questo seminario è l'inizio di un percorso di comunicazioni sulle buone pratiche che debbono essere adottate a settembre sono già fissate le date per la riapertura dei nostri istituti scolastici non vorremmo trovarci come nel 2020 e negli anni scolastici relativi 2019 2020 2020 2021 ancora una volta con la didattica a distanza allora al fianco di comportamenti umani che dobbiamo tenere che ormai tutti dovremmo conoscere al fianco dell'invito del governo e delle regioni alla vaccinazione abbiamo uno strumento molto semplice ma molto efficace per garantire la salubrità degli ambienti scolastici dove vivono i tanti ragazzi delle nostre scuole i tanti insegnanti i tanti operatori scolastici che è una che è la ventilazione meccanica controllata per il quale la regione Marche in tempi record a febbraio ha approvato la prima delibera il 9 febbraio il primo marzo ha pubblicato una gradatoria in riferimento agli enti che hanno partecipato al bando e ad oggi è arrivato a finanziare circa il 50% di quella gradatoria con 6 milioni di euro dicevo in precedenza poi ovviamente lascio la parola agli altri relatori del seminario che mi ha colpito molto la esperienza di un liceale che si è maturato il quale in un'intervista dei giorni scorsi ha parlato della sua esperienza DAD e l'ha descritta con questi termini oscurità monotonia nebbia imbroglio e omertà è chiaro che la DAD non solo ha inciso sui livelli di formazione di preparazione dei nostri ragazzi ma ha inciso e queste parole ne sono il riassunto la sintesi fortemente sugli aspetti psicologici sui rapporti umani e allora le istituzioni devono fare di tutto per garantire la presenza nelle scuole dei nostri ragazzi e l'intervento come abbiamo detto più volte in precedenza non è rappresentato dallo sperpero di risorse in interventi che nulla hanno prodotto come i banchi a rotelle ma seguendo la strada che la scienza ci indica che la tecnica ci indica per non ridurre a zero il rischio di contagio ma per diluire il più possibile la carica virale all'inizio di questo seminario la dottoressa Maria Chiara Voci il giornalista del sole 24 ore ci ha detto molto chiaramente di una sua esperienza di otto anni fa e di ciò che appariva nei registri scolastici di una scuola quella scuola che aveva montato la ventilazione meccanica controllata aveva fortemente visto abbattute le assenze degli alunni e degli scolari in questo caso per malattia ecco il risultato concreto della ventilazione meccanica controllata dal quale noi dovremmo apprendere per realizzare degli interventi strutturali che non servono soltanto a contenere il covid ma servono al contrario per garantire la salubrità dell'aria e anche ad evitare o a raggiungere l'abbattimento di altri agenti inquinanti che possono essere presenti all'interno delle aule ma anche la diffusione di tutte quelle malattie che si trasmettono per via aerea il professor Delrico molto semplicemente molto chiaramente ci ha detto non chiamate banale l'influenza con la ventilazione meccanica controllata siamo in grado di abbattere fortemente anche il contagio dovuto all'influenza così come quella che noi chiamiamo banale influenza o anche del semplice raffreddore e allora cominciamo ad investire la regione Marche con il presidente a coruoli è orgogliosa di poter dire che uno degli obiettivi principali del suo mandato per 5 anni è stato anche questo l'oggetto dell'intervento del presidente all'inizio del seminario non è altro che la salute e la sicurezza dei nostri ragazzi non per interventi spot ma per interventi che diventino una costante dell'azione politica amministrativa di questa giunta così come ciò che è emerso da questo incontro il monitoraggio degli investimenti quindi andremo a verificare che cosa accade in quelle aule dove è stata montata la ventilazione meccanica controllata così come andremo a rapportare quell'analisi a ciò che accade invece in quelle aule dove la ventilazione meccanica controllata non è stata applicata io termino qui la sintesi del seminario che rappresenta non la volontà di imporre delle scelte a comuni e province ma la volontà di sollecitare affinché cresca dal basso questa sensibilità verso la salubrità delle aule e finalmente si rispetti una normativa disattesa ampiamente nella nostra regione e credo in gran parte delle regioni italiane perché nel 1975 già si davano degli indirizzi ben chiari sulla necessità di garantire la salubrità dell'aria nelle nostre aule scolastiche a questo punto lascio la parola per un breve cenno sui contenuti del seminario alla dottoressa Maria Chiara Voci grazie assessore da parte mia io non sono un tecnico e quindi credo che il professor Delrico e il professor Di Perna più di me siano titolati a parlare posso solo dare un consiglio da giornalista che lavora molto su questi temi ai colleghi che ci ascoltano ed è quello di conoscere bene i termini perché abbiamo in questo seminario è venuto fuori in maniera chiara soprattutto dal primo intervento con il dottor Delrico come la confusione sui termini la non conoscenza delle tecnologie nello specifico abbia fatto sì che poi si potesse ricadere in errori che si sono rincorsi per due anni e che hanno fatto perdere del tempo utile nella predisposizione di questi tipi di di interventi di tecnologia all'interno delle aule che forse già l'anno scorso quando si parlava nel dibattito estivo di come andare a mettere in sicurezza le scuole ecco i tecnici questo lo so di per certo perché ho realizzato molte interviste in quel periodo dicevano ma perché stiamo parlando di banche a rotelle inserendo un elemento di inquinamento in più oltretutto all'interno di un'aula invece di puntare sulla ventilazione siccome la ventilazione il tema vero ecco una confusione sui termini il fatto di non aver capito che la ventilazione meccanica controllata non era un condizionamento forzato dell'aria o un raffrescamento tutto questo ha fatto sì che è normale questo perché la non conoscenza per un non esperto è normale però ha fatto sì che insomma si perdesse del tempo utile quindi da parte mia credo che l'importanza di questo seminario di oggi sia quello di aver spiegato in maniera molto concreta sia quali sono le tecnologie e in cosa consistono come si mettono in atto e quali sono gli accorgimenti da prestare nell'utilizzarle sia quali sono gli effetti sulla salute del in questo caso dei bambini dei ragazzi degli insegnanti chiaramente questo tipo di tecnologia non vale solo per le scuole ma per qualsiasi tipo di immobile noi andiamo a dover mettere in sicurezza nella qualità dell'aria interna io non so come viene gestita la conferenza stampa ma credo che si possa dare la parola al professor Delrico e al professor Di Perna per darci una sintesi anche dei loro interventi quindi professor Delrico lascio la parola a lei a che ora siete entrati in aula così riparto scherzo adesso allora bisogna proprio partire dall'inizio no no il problema dell'inquinamento inter è un problema molto datato che poi chiaramente è emerso fuori con il problema della pandemia gli inquinanti noi abbiamo concentrato l'attenzione sul SARS-CoV-2 ma gli inquinanti che contribuiscono a modificare la qualità dell'aria sono anche di natura fisica e chimica ci sono per esempio in Italia in Europa un alto tasso di incidenza di allergie e asma che deriva dalla continua esposizione a queste allergene ambientali che sono presenti in ambienti chiusi quando non c'è appunto una ventilazione da garantire una diluzione una riduzione di queste sostanze e poi presso l'estrema sintesi siamo andati a concentrare l'attenzione su SARS-CoV-2 dove ci sono già esperienze che sia all'università di Ferrara sia l'università di Cassino che hanno valutato questi impianti nella riduzione del rischio di contagio con il virus e hanno trovato hanno indicato dei risultati di riduzione estremamente importanti quello che io però vorrei aggiungere alla relazione è che la strategia per la riduzione dell'inquinamento ambientale interno e multifattoriale nel senso che non possiamo soltanto con la ventilazione microbica controllata ridurre in maniera importante il rischio di trasmissione di malattie di tipo biologico chimico fisico ma devono essere questi sistemi abbinati e questo l'assessore l'ha già anticipato alle vaccinazioni io sono un igienista e quindi con le vaccinazioni ovviamente ci lavoro da quando mi sono laureato sono sempre stato uno di quei medici che non ha mai voluto imporre una scelta in questo senso ho detto sempre che deve essere una scelta consapevole una scelta sempre basata sui dati scientifici e sull'andamento epidemiologico delle malattie non voglio fare l'esempio della SARS vi faccio l'esempio del morbillo quando abbiamo avuto l'epidemia di morbillo in Italia dove sono morti addirittura dei ragazzi giovani cioè morire in un paese occidentale di morbillo è una cosa che non è assolutamente etica allora la comunicazione è fondamentale i vaccini sono dei farmaci e come tali possono generare eventi avversi se non andare a valutare il costo benefici il ministero è stato costretto a rendere obbligatoria la vaccinazione per il morbillo e avete visto non c'eravate c'è stato un crollo della circolazione del virus del morbillo nella popolazione italiana quindi questo significa che quando non riusciamo a gestire in altra maniera dobbiamo integrare effettivamente con questa possibilità di mettere in sicurezza non solo il singolo individuo ma a questo punto anche la collettività faccio il cenno soltanto alla SARS dei ricoveri noi ad oggi a Torrette non abbiamo nessuno ricoverato in terapia intensiva speriamo che la situazione vada avanti così voi sapete che il delta è estremamente contagioso abbiamo una io ho una grossa preoccupazione perché ho vissuto in prima linea la pandemia perché dirigo l'igiene ospedaliera di Torrette da marzo dell'anno scorso e vi garantisco che toccare con mano quello che noi abbiamo visto indurrebbe molti che non vogliono vaccinarsi perché quando si sta distante da quello che succede da questi eventi drammatici si ha una percezione inferiore a quanto è impattante questa pandemia la nostra preoccupazione è che c'è più di 2 milioni lo sapete bene più di 2 milioni e mezzo di soggetti sopra i 60 anni che se possono se hanno anche delle comorbidità quindi delle malattie aggiuntive se dovessero controllare il delta noi abbiamo il rischio di tornare a rivedere le rianimazioni con soggetti che possono contrarre una malattia grave ad esito grave l'ultimo report dell'istituto di professionalità ha detto che il 90% dei ricoverati attuali in ospedale per covid-19 sono soggetti non vaccinati quindi ecco perché dico al di là di quello che uno pensa sulla strategia vaccinale gli interessi economici le sperimentazioni certo che siamo in fase di sperimentazione ma qualsiasi farmaco che viene commercializzato poi subisce una sperimentazione post commercializzazione quanti farmaci sono stati poi ritirati dal commercio perché gli effetti che si sono manifestati non erano quelli che erano stati valutati durante le sperimentazioni però io ho vissuto tante pandemie ma una così devastante da igienista non l'avrei mai immaginata perché i sistemi di controllo a livello mondiale sono talmente tanti che era impensabile che si arrivasse a questa situazione purtroppo perché sono saltati i controlli perché nel momento in cui a novembre del 2019 ci furono 50 casi di polmoniti sospetti furono dichiarati e furono riportati anche dalla stampa internazionale bisognava prendere immediatamente i propri edimenti per evitare che da quel focolaio poi germe contagiasse il pianeta perché questo è l'effetto purtroppo negativo della globalizzazione perché giriamo ovunque allora integrare sicuramente con la vaccinazione sempre come scelta consapevole e capire costo-benefici certo io mi rendo conto che chi ha l'evento avverso negra sempre la bontà delle vaccinazioni però qui rientra in gioco il fattore etico di tutela della salute collettiva altra cosa che volevo sottolineare l'importanza che si è detto prima nelle norme comportamentali igienico-sanitarie l'ha ribadito l'assessore più volte noi non possiamo dire ah va bene come succede anche per la vaccinazione ah sono vaccinato non divento non mi contagio più e quindi sto tranquillo posso fare quello che voglio questo è un falso senso di sicurezza allora la ventilazione meccanico-controllata è una cosa veramente io da igienista che ringrazio ulteriormente di questa iniziativa perché contribuirà sicuramente a ridurre l'impatto delle malattie trasmissibili in ambito indoor però è fondamentale anche che si apri le norme comportamentali se uno studente un ragazzo in aula starnutisce senza coprirsi la bocca è evidente che quei droppi vanno in giro e quindi chi l'inala rischia anche con la ventilazione perché dovremmo avere talmente tanto elevati ricambiare a ora da ridurre anche questi tipi di situazioni quindi lavarsi le mani tossire nel fazzoletto nella piega del gomito quelle indicazioni che sono già state messe in alto addirittura dai tempi della SARS del 2003 quindi questa strategia integrata sicuramente sanificazione le norme comportamentali le vaccinazioni la ventilazione meccanica controllata sono tutti componenti che possono contribuire a far sì che allergie asma malattie trasmissibili possono essere efficacemente ridotti negli ambienti indoor e specialmente negli ambienti scolastici i ragazzi sono quelli più suscettibili sono quelli più esposti a queste situazioni volevo purtroppo aggiungere a quella riflessione di quello studente che noi nell'università la Dada ha comportato un aumento perché noi abbiamo uno sportello psicologico un aumento percentuale veramente quasi non gestibile di aumento di ansia depressione e purtroppo anche distinti suicidari quindi è una cosa che non ci possono più permettere di tenere a casa i ragazzi perché sono tutti quegli effetti indiretti della pandemia perché noi abbiamo soltanto valutato i morti della SARS ma ci sono tanta mortalità indiretta triplicate in mortalità per l'imparto nel mio cardio 2 milioni e mezzo di test di screening non effettuati con il rischio che aumenteranno le neoplasie nei prossimi anni il ritardo di agnostico perché molti si sono intimoriti di andare in ospedale a farsi visitare e quindi noi dobbiamo recuperare anche su questo aspetto e purtroppo abbiamo una situazione psicologica di studenti estremamente seria grazie professore se posso solo permettermi lei ha dato anche un dato di uno studio che è stato fatto mi pare dall'università di Cassino se non ricordo male in cui dava l'efficacia della VMC io credo che sia interessante per i colleghi sì mi recupera a memoria posso ricordare che c'è stato fatto questo studio perché loro hanno elaborato un tools per quanto riguarda la valutazione del rischio di contagio all'interno di un'aula scolastica che era con 25 studenti adesso le dimensioni vargherano 50 metri quadrati 50 metri quadrati 25 studenti l'insegnante positiva l'insegnante che ha parlato per due ore urlando zittendo gli studenti eccetera il rischio di contagio su 25 studenti era stato stimato in 12 studenti utilizzando la ventilazione meccanica controllata il rischio si abbatteva a probabilità di 4 studenti contagiati quindi vedete come si è ridotto notevolmente il rischio se si abbina ecco perché diceva può essere c'era stata gente grata microfono per l'insegnante quindi non ha più necessità di urlare mascherina per chi sta in aula più ventilazione controllata si arriva a avere un rischio di contagio di 0,4 questo è dello studio del professor Bonanno che potete trovare su internet dell'università di Cassino che illustra proprio questa sua esperienza in collaborazione con gli istituti universitari internazionali che dimostra come la ventilazione meccanica controllata comunque se non a zera ma riduce notevolmente la trasmissione così come l'università di Ferrara che ha messo gli impianti in ventilazione meccanica controllata e c'è la dichiarazione di chi ha effettuato questa sperimentazione nelle aule del dipartimento di ingegneria che ha ridotto la trasmissione del covid del 70-80% quindi sono dati oggettivi grazie grazie professor Delrico per il suo contributo lascio la parola per la sintesi dell'intervento all'ingegner di Perna sì grazie allora il mio intervento si è focalizzato sull'impiantistica e all'inizio ho descritto i vantaggi della ventilazione meccanica controllata rispetto alla reazione perché oggi tutte le nostre aule sono dotate di finestre e quindi il controllo che fino ad oggi si è fatto della qualità dell'aria era attraverso l'apertura delle finestre la grande differenza che ho sottolineato fra l'apertura delle finestre e un sistema di ventilazione meccanica controllata è il controllo della portata dell'aria ovvero aprendo le finestre noi abbiamo una portata dell'aria che varia a seconda della temperatura esterna della velocità del vento della direzione del vento e questo cosa comporta comporta che ovviamente il rinnovo dell'aria all'interno è variabile durante il periodo scolastico avendo un sistema di meccanico controllato andiamo a controllare questa portata ho poi sottolineato uno dei parametri fondamentali che è il coefficiente n ovvero il rinnovo dell'aria il rinnovo dell'aria che deve essere fatto cioè ricambiamo l'aria nel volume occupato quindi i nostri impianti devono ricambiare l'aria fondamentalmente nella zona dove sono presenti gli studenti e sottolineando che questo rinnovo dell'aria veniva in qualche modo già dettato dal decreto 75 pari a 2,5 nelle scuole elementari e fino a 5 volumi nelle secondarie 5 volumi di rinnovo aria vuol dire che noi rinnoviamo l'aria nella nostra aula scolastica ogni 12 minuti e questo è un aspetto importantissimo ogni 12 minuti abbiamo aria nuova nella nostra aula e questo come gli stessi studi fatti da Bonanno e altri dimostrano come viene ridotto tantissimo il rischio di contagio da covid poi ho descritto quelli che sono i componenti fondamentali di un sistema di ventilazione meccanica controllato e tra questi i recuperatori di calore sì perché rinnovare l'aria prendendo l'aria dall'esterno nel periodo invernale e immettendola all'interno di un ambiente ovviamente dobbiamo in qualche modo riscaldarla quindi dobbiamo fornire energia a quest'aria oggi abbiamo tantissime leggi che ci regolano il consumo di energia perché spesso e volentieri questa energia la generiamo da combustibili fossili e quindi dobbiamo stare attentissimi a questo aspetto ed ecco che il rinnovo dell'aria deve essere accoppiato a quello un componente fondamentale che si chiama recuperatore di calore cioè che recupera il calore praticamente dall'aria espulsa ho poi focalizzato l'attenzione sulle normative attuali in particolare la 10339 che è del 1995 quindi una norma abbastanza vecchia che però descrive bene quelle che sono gli indirizzi che devono avere questi impianti ovvero una presa d'aria esterna posta lontano per esempio da zone inquinate perché non possiamo andare a prendere aria da strade o da cose di questo genere e metterla dentro le nostre aule e infine mi sono soffermato su quelli che sono i costi e come questi costi possono aumentare a seconda del tipo di impianto grazie ingegnere ovviamente la ventilazione meccanica controllata con scambio di calore ha un dubbio obiettivo quello di garantire la solubilità dell'aria ma anche di efficientare gli ambienti perché è un conto utilizzare la ventilazione meccanica controllata come spiegavamo in precedenza che porta anche nelle zone più recondite dell'aula dell'ambiente questa aria che diluisce la possibilità di contagio da covid è un contro aprire una finestra una porta che è una reazione naturale ma che non assolutamente non raggiunge gli effetti di una ventilazione forzata dell'aria questo è uno degli aspetti che abbiamo preso in considerazione in precedenza ora in conclusione poi vi lasciamo se avete curiosità delle domande lascio la parola all'architetto Goffi e quale io faccio i complimenti insieme alla sua squadra perché devo dire la verità lo dico a dei giornalisti avevo sentito un po' di larità il 9 febbraio dicendo non ci riusciranno mai a mettere a terra in tempi così veloci le risorse che hanno stanziato e in realtà ci siamo riusciti il che significa che anche la pubblica amministrazione se ne ha la volontà riesce a raggiungere i risultati anche quella italiana che molto spesso è bistrattata io lo sottolineo perché questo sia da insegnamento lo dico perché da ed ho ragione ai giornalisti architetto da assessore alle infrastrutture e lavori pubblici ho dovuto fare un piano dei lavori pubblici il triennale e ho voluto vedere quello che accadeva in passato che cosa accadeva in passato che le risorse nel piano triennale aumentavano gli stanziamenti ma sono stanziamenti nuovi o sono quelli vecchi che ci trascinavamo dietro no erano quelli vecchi che ci trascinavamo dietro la regione stanziava le risorse e poi non le metteva a terra quindi diventa solo l'intervento uno slogan gli interventi della regione non devono essere più uno slogan non devono essere la messa a terra delle risorse per rispondere ai bisogni dei cittadini marchigiani e qui lo abbiamo fatto in un solo mese abbiamo attivato un bando abbiamo trovato le risorse abbiamo stirato una gradatoria e oggi siamo arrivati lunedì scorso ad aggiungere 2 milioni di euro iniziali che servivano per attivare la gradatoria ne abbiamo aggiunti altri 4 siamo arrivati a 6 milioni di euro per garantire area salubre a 24 mila studenti marchigiani primi in Italia nel accettare una sfida che noi proponiamo al governo perché poi la decisione non sarà nostra realizziamo interventi strutturali architetto Goffi per dire al governo che forse le lezioni in presenza se studiamo bene gli interventi da realizzare nei nostri edifici scolastici sono possibili per eliminare quegli effetti drammatici della dad che ci raccontava quello studente e che sono stati sottolineati dal professor Delrico quelle sono le nostre generazioni e sono i nuovi giovani che noi dovremo cercare di tutelare per le responsabilità che abbiamo e coccolare perché davvero si preparino a diventare la nuova classe dirigente della nostra nazione grazie architetto grazie assessore sì avevo nell'intervento evidenziato alcuni aspetti tre in particolare il primo i tempi nel senso che ci siamo attivati a febbraio e ad agosto le opere a fine agosto al 31 agosto le opere saranno completate quindi come evidenziava l'assessore abbiamo attivato tutta la parte burocratica compreso il bando assegnato subito i soldi già a marzo il 30% il 70% fa poco sotto questo profilo la sfida era abbastanza importante perché entro 6-7 mesi bisognava fare le opere non solo fidarle e quindi anche il bando abbiamo pensato un bando particolare in cui non c'era una gradatoria ma c'erano semplicemente delle ammissioni cioè chiedevamo dei progetti che potevano essere ammessi o non ammessi quindi a questo punto è stato più semplice diciamo gestire il bando e in più abbiamo una gradatoria che è stata utilizzata per i primi 2 milioni e poi adesso la stiamo utilizzando per i 4 milioni quindi i 4 milioni successivi non hanno avuto bisogno di nessun aspetto burocratico se non della volontà dell'amministrazione di finanziare con ulteriori 4 milioni e quindi poi di assegnarli sotto questo profilo poi ci sono delle slide avevo fatto vedere dove evidenziavano uno i comuni che avevano partecipato sono circa 103 comuni e province 187 i comuni che noi finanziamo sono mi sembra 83 vediamo 87 più 5 province perché abbiamo finanziato anche la parte delle province questo equivale a circa 1500 aule perché le scuole sono circa il doppio ogni ente poteva partecipare con almeno non più di due strutture scolastiche tutti hanno partecipato alla fine con due strutture scolastiche quindi stiamo pensando a un finanziando un miglioramento per quanto riguarda tutta la parte della della ventilazione meccanica di 1500 aule e quindi ci possiamo immaginare 13-14 mila studenti di media quindi un aspetto importante che non è un esempio solo ma è anche praticamente un intervento importante che sicuramente poi andremo a controllare e a verificare i benefici ma un intervento dove già dal 30 dalla fine agosto al 31 agosto vedremo diciamo degli effetti benefici sulle aperture delle scuole di settembre sotto questo profilo nel bando avevamo prestato anche attenzione a mettere una riserva diciamo per i comuni sotto 5000 abitanti quindi è come se ci fossero state due gradatorie e sotto questo profilo abbiamo visto che anche graficamente ma anche come numero che questo ha permesso una omogeneità di trattamento all'interno del territorio marchigiano normalmente quando si compilano dei bandi o si fanno dei bandi di tipo tradizionale succede che i comuni più grandi chiaramente hanno più energie più progetti e quindi prevalgono su quelli più piccoli e questo vuol dire anche una differenziazione non solo di abitanti ma anche di territori tra i territori lungo la costa e i territori più dei territori interni invece questo aspetto del primo bando che poi abbiamo mantenuto anche nella gradatoria per il secondo permette di far sì che queste innovazioni che questi miglioramenti siano diffusi in maniera omogenea in tutto il territorio e un altro aspetto importante il terzo è che l'amministrazione regionale sta gestendo compreso i fondi del terremoto per l'edilizia scolastica in parte attivata in parte si attiveranno nei prossimi mesi e nei prossimi anni circa 536 milioni di euro allora sotto questo profilo gli edifici scolastici complessivi perché alcuni sono anche ristrutturazioni di tipo sismico sono circa 400 un po' meno di 400 quindi stiamo percorrendo diciamo un interprendendo un percorso veramente importante perché vuol dire che per tutte le regioni in particolar modo per le aree del cratere ma questo ha permesso anche di liberare le risorse ordinarie dell'area del cratere e spostarle sulle altre quindi per tutte le situazioni della regione Marche per tutti i comuni e le province avere una capacità economica veramente importante e ci permette di immaginarci delle scuole diverse da quelle di oggi non solo sotto l'aspetto energetico e sismico che in parte è scontato ma prestare attenzione alla qualità diciamo interna delle scuole alla qualità della parte impiantistica tra cui la ventilazione forzata che nelle nuove è scontato che ci sia ma anche l'altra attenzione la possibilità di avere dei parcheggi coperti che ne so per le biciclette per far sì che sia più facile l'affluso le scuole un altro tema che stiamo affrontando nei bandi e quello di avere delle scuole soprattutto diciamo quelle evidenziavo non urbane non nei centri più importanti delle scuole che abbiano una destinazione flessibile che possa essere utilizzato come l'edificio pubblico principale dei piccoli centri che non è solo una scuola per le ore della mattina ma al di là della palestra ma diventa veramente un luogo il luogo principale il luogo pubblico l'edificio pubblico dei paesi più piccoli e quindi anche lì pensare a una tipologia della scuola diversa che sia più flessibile che possa essere aperta in parte senza che aprire la porta della scuola vuol dire che tutta la scuola è accessibile quindi gestirla con un'attenzione maggiore e un utilizzo una reddittività dell'investimento sicuramente più elevato perché ripeto non sarà solo una scuola ma è l'edificio principale pubblico dell'amministrazione comunale grazie architetto perché oltre a quel mezzo miliardo di euro che abbiamo in prospettiva da investire in un'edilizia scolastica che sia innovativa come appena adesso sottolineato l'ufficio noi abbiamo chiesto ulteriori 200 milioni di euro il governo nazionale con i fondi del PNRR perché veramente abbiamo a cuore la sicurezza dei nostri ragazzi e strutture all'avanguardia strutture all'avanguardia non dimentichiamolo mai che devono essere innovative ma nell'innovazione devono ritornare ad avere ciò che le nostre scuole avevano nel passato le aree dove i nostri ragazzi possano fare sport le aree dove i nostri ragazzi possano stare all'aperto a svolgere attività troppo spesso anche nel recente passato abbiamo dimenticato questo ora avendo concluso una sintesi di ciò che è accaduto stamattina la presenza sia online che fisica di alcuni sindaci e di alcune province provenienti da tutta la regione Marche se avete curiosità lascio la parola per qualche domanda alla stampa grazie no dicevo i 536 milioni di euro per l'edilizia scolastica in quanti anni e che tipologie di quindi sono da dove arrivano e quali tipi di interventi appunto se ci avete nello specifico rifacimento di scuola magari nell'area del cratere oppure aggiustamenti per l'avvisamento climico e l'efficientamento energetico allora circa 300 o un po' più di 300 sono legate all'area del cratere quindi sono finanziamenti legati all'area del cratere sotto questo profilo sono rifacimenti di scuole per la maggior parte quindi demolizione nella costruzione di nuove scuole e alcune volte quando i danni sono stati limitati invece è anche una gestione della parte sismica delle scuole esistenti quindi la parte importante viene dal cratere l'altra parte sono finanziamenti sia ordinari del piano triennale che stanno andando avanti ogni tre anni quindi vuol dire che alcuni come dire dalla previsione alla poi conclusione della scuola passano vari anni chiaramente perché vuol dire per oltre il finanziamento per quanto riguarda i comuni fare la gara per i lavori la gara per validare il progetto la gara per l'esecuzione di lavori ed eseguire i lavori quindi diciamo una scuola da quando viene finanziata e completata è abbastanza normale che ci metta cinque anni quindi noi ancora abbiamo pochi cantiere di questi 536 milioni che stiamo vedendo ci sono i progetti che stanno andando avanti quindi i prossimi mesi i prossimi anni sarà il periodo in cui vedremo la realizzazione di questi investimenti l'altra parte come dicevo è del piano trennale che viene finanziato costantemente in più ci sono stati un paio di finanziamenti straordinari da parte del Ministero di ulteriori finanziamenti per quanto riguarda il piano trennale oltre a questa parte qui non è inclusa una parte dei finanziamenti che sono arrivati ultimamente direttamente alle province alcuni mesi fa le province hanno avuto ulteriori finanziamenti ma questo è per dire che abbiamo un po' come il il recovery ci sta evidenziando perché oltre a questi ci sono anche i fondi del recovery che ancora come dire vedremo come verranno declinati quindi abbiamo degli investimenti veramente importante ed è il momento che si può pensare a un'edilizia scolastica che non è una semplice manutenzione dell'edilizia scolastica abbiamo un edificio lo manteniamo lo mettiamo in sicurezza a fine ma si può anche pensare a un'edilizia scolastica diversa con delle prestazioni più elevati con una qualità più elevata sotto tutti gli aspetti sismici energetici di qualità proprio degli spazi interni si volevo chiedere un chiarimento sui numeri della graduatoria e quanti ne sono nella fretta non li ho presi tutti quanti ne sono stati quanti hanno ricevuto il contributo quanti ne sono rimasti fuori e se magari in un secondo momento potranno l'obiettivo di finanziare anche quelli rimasti fuori e poi volevo chiedere se questo modello della ventilazione meccanica si può pensare di esportarlo anche in altri edifici luoghi pubblici compresi ad esempio anche i mezzi del trasporto pubblico per rendere più salubri quegli ambienti si ringrazio anche dire per questa Luca Fabri per questa domanda allora il finanziamento complessivo è di 6 milioni di euro quindi un importante finanziamento della regione Marche che riguarda 170 scuole interventi su 170 scuole su 1500 aule che computano approssimativamente se il calcolo c'è stato comunicato con esattezza 24 mila studenti nella prima programmazione siamo riusciti con 2 milioni di euro a finanziare 25 comuni e le 5 province marchigiane si aggiungono si aggiungono 62 nuovi comuni con questo finanziamento da 4 milioni di euro per un totale di 87 comuni finanziati circa la metà della graduatoria 87 più 5 province per quanto riguarda come si disse al momento della comunicazione di questa iniziativa all'incirca febbraio del 2021 comunicamo che avremmo redatto una graduatoria per notare la sensibilità che vi era a livello regionale verso questo intervento e avremo adeguato i finanziamenti alle richieste proprio questa mattina il presidente Acquaroli ha comunicato che è volontà del nostro assessorato e della giunta nel suo complesso di dare ulteriormente seguito a questi interventi che garantiscano la presenza in aula dei nostri ragazzi per gli evidenti danni della didattica a distanza ma soprattutto che sarà continua l'attenzione della giunta regionale anche gli stanziamenti che abbiamo appena comunicati e le risorse che abbiamo richiesto e stiamo richiedendo al ministero la dimostrazione sulla salute dei nostri ragazzi che possano usufruire di strutture che siano sicure la possibilità di esportare il modello anche in altri luoghi pubblici come ad esempio i mezzi del trasporto pubblico c'è qualche idea sui mezzi del trasporto pubblico oggi poteva essere con noi l'ottimo collega Guido Castelli che però è impegnato a Roma altrimenti ci avrebbe fatto visita è chiaro che questi tipi di interventi contengono fortemente il contagio in aula e soprattutto per quei livelli scolastici dove il trasporto è meno impattante abbiamo ricordato durante questo seminario che purtroppo lo Stato italiano destina poche risorse al trasporto pubblico locale alla qualità del trasporto pubblico locale e purtroppo la regione Marche abbiamo trovato questa eredità nella ripartizione dei fondi nazionali una delle meno finanziate d'Italia però stiamo lavorando affinché si inneschi un comportamento virtuoso anche nel trasporto pubblico ci sono già alcune società di trasporto della nostra regione che hanno prenotato e stanno acquistando e potremmo essere in parte pronti anche per l'inizio dell'anno scolastico pullman di nuova generazione con ventilazione meccanica controllata che quindi non si affidino soltanto l'apertura e la chiusura che pur se avviene in maniera frequente nei pullman non garantiscono un ricambio omogeneo dell'aria e quindi l'abbattimento della carica virale e ci sono interventi per l'adeguamento lo dirà meglio poi il collega Castelli in successivi appuntamenti che stabiliremo anche con la stampa sulla flotta di pullman di alcuni società per l'adeguamento se non ci sono altre domande questo è l'inizio di un percorso con questo seminario proprio didattico nei confronti dei comuni delle province dei dirigenti scolastici ma noi speriamo anche per il governo nazionale che indirizzi meglio le risorse che ha a disposizione grazie alla stampa per la pazienza e la cortesia che utilizza sempre nei nostri confronti